Eccoci ragazzi e ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, che cosa sta facendo? Buongiorno a tutti e a tutte. Che cosa sta facendo Fabri nella sua giornata? Allora, Fabri nella sua giornata sta facendo queste cose qua, che ora vi dice. Così vi fa portare a casa un po' di valore aggiunto tecnico, è contento che domani si augura di essere di nuovo sveglio, però nel caso sarebbe lo stesso contento. Allora, stiamo tutti i giorni facendo delle live dalle 10.30 fino a, a volte anche le 14, a volte le 13, qualcosa del genere. In queste live stiamo trattando nei minimi dettagli il trading discrezionale. Poi, alternandoci, ma arrivando alla fine della settimana dove tiriamo giù i numeri del trading discrezionale, parliamo anche di trading sistematico. Allora direi che ogni giorno facendo questo, io abbia messo questa tendenza, potrebbe essere valido anche per oggi. Allora, nel trading discrezionale, la sintesi l'ha fatta Marco questa mattina in maniera perfetta. Infatti mi sono permesso di fare uno stamp della chat alle 9.08. Adesso qui, ovviamente, sarebbe meglio ingrandire un po', però si sgranerà, ma comunque si legge. Allora, e questo è aver già raggiunto il mio primo obiettivo di oggi, perché ha scritto una cosa a Marco importantissima. Cioè, vabbè, intanto grazie a voi, grazie a te Marco. Il mix, doccia gelata. Doccia gelata cosa vuol dire? Doccia gelata vuol dire che tu, essere umano, consapevolmente decidi di prenderti la tua vita nelle tue mani, perché sei tu che metti le tue mani sul regolatore della temperatura dell'acqua, sei tu che l'acqua è fredda, ok? Quindi, gelata, state tranquilli, state tranquilli, non lo è, però 11, 12, 13 gradi smuove tanto, ma sapete che cosa va a smuovere? La parte subconscia, la parte più primitiva del cervello, quella rettiliana, dove c'è appunto la migdala, che farà di tutto per tirarvi fuori, ed è la stessa parte che farà di tutto per sabotare il vostro trading, è la stessa vocina che vi dice, no, non ti stoppare, perché tanto, no? Recupererà poi il tuo trading, no, non ti stoppare, oppure sei in piccolo guadagno, prendili, prendili, perché poi te li rimangiano tutti, prendili, ecco. Allora, è veramente importante questo messaggio di Marco, perché adesso Marco ha iniziato, quando abbiamo iniziato, più o meno, circa la sfida dei 400 giorni, io mi sono fatto male al piede, ma ho continuato a farmi le dolce fredde, non ho più fatto i video, adesso ho fatto un video l'altro giorno, ho ripreso un bel fiume finalmente, benissimo, fantastico, e quindi per un trader distrazionale, a mio avviso, ed è quello che io sto condividendo con chi mi segue ogni giorno, è importante essere degli atleti professionisti, cioè non esiste tipo film, alla sera vado all night, no? Mi ubriaco il giorno dopo tra di milioni, no, no, alla sera se si può si va a dormire anche presto, per godere di un risveglio alle 5 e mezza, 6 di mattina, farsi la doccia, fredda, gelata, musica rilassante, e poi le trendline. Le trendline sono una tecnica discrezionale che ho condiviso, che ho condiviso in questi due mesi di sceneggiate varie, no, sul pianeta terra, ma soprattutto in Italia, dove fabriare una tecnica pronta per l'uso, senza che debba mettermi lì a studiare il premoto, proprio in termini di logistica, no, di tempi, perché mi hanno detto che starò a casa una settimana e quindi vorrei già tradare, avevo una tecnica pronta per l'uso, poi quella settimana sono diventate due, tre, un mese, due mesi, sappiamo tutti come sta andando avanti, no? Allora ho condiviso questo percorso al mio personale di trendline che hanno determinati requisiti, ok? Spero di averli smessi al 110%, e quindi chi ha gradito come Marco stamattina anche utilizzarle, alle 9.07, e lo ringrazio perché alle 9.08 mi ha mandato già un messaggio, hanno fatto boom, quindi giornata di trendline finita, vado a fare una passeggiata nel sole e nella natura. E questo è il valore aggiunto di questo mestiere, ragazzi ragazzi, la libertà, ok? La libertà. Poi magari oggi Marco si fa la passeggiata, si prende un po' di sole, magari si fa un pranzo tranquillo, rilassato, eccetera, eccetera, oggi pomeriggio è bello pimpante, va in postazione, magari vedrà un'altra trendline, benissimo, la traderà e sono quasi sicuro che gli andrà bene, perché poi sulla fine siamo noi che orientiamo, no? Le nostre cellule verso il successo. Quindi, ecco, ovviamente questa è una giornata open, dove si chiacchiava un attimino, dove io non mi preparo mai quello che andrò a dire e quindi iniziare così mi ha fatto veramente piacere, quindi grazie Marco. E questo è un fatto. Ora, ok, perfetto, va bene, mi hai sentito, perfetto. Ora ho lasciato questa schermata, no? Questa schermata, ragazzi e ragazze, adesso il progetto è partito in real time, ok? è partito in real time, da un lato quasi in difficoltà, no? Mia personale, psicologica, psicologica, perché siamo qui, cioè questo è il mio punto di partenza, ok? Quindi lì è dove sono, siamo partiti, ok? Quindi ho invitato alla ricerca di una via di mezzo, mi spiego. Il 2020, che cosa ha fatto? Ve lo faccio vedere, magari se riesco a zoomare un po'. Ok, ho sbagliato. Ora non è facile questo programmino da usare, allora, ok, forse se faccio così, ok, perfetto. Allora, che cosa è successo per adesso? E poi vorrei rimanere sempre nelle mie provocazioni, ci pensavo prima, ovviamente mi capisco solo io, ma se non sbaglio Cristo si è fermato a regoli e Dio invece è scelto Torino, ovviamente non sono io, ok? E quindi questa è la mia premessa che mi fa sorridere, dopo poi magari capirete il perché. Allora, che cosa è successo? È successo, poi parliamo un attimino di come si possa creare quest'editi, è successo che all'inizio di quest'anno, questa fase qui, il portafogli è stato decisamente piatto. Poi c'è stato il discorso che sappiamo, chiamiamolo del, non riesco neanche a dirlo, di quella roba lì, virus, eccetera, ok? È aumentata la volatilità e il portafogli l'ha preso bene, sono molto contento, peccato non aver avuto come dire, la possibilità di partire prima dell'esplosione di volatilità. Quindi durante l'esplosione di volatilità molti portafogli sono saltati, perché magari non strutturati adeguatamente e invece questo è esploso. Ora, ci siamo trovati di fronte alla possibilità di iniziare a partire in real time, siamo partiti e ci siamo trovati con questa già salita che personalmente, avendo nella mia testa il contrarian da sempre, vediamo se qui riesco, riesco, ok? A ripristinare. Essendo un contrarian, è chiaro che questa salita qui in alto a destra mi viene quasi da scioltarla, quindi mentalmente che cosa mi viene da pensare? Ma aspetta farli a partire, perché magari il portafogli è andato bene sull'aumento di volatilità per le ragioni che sappiamo e adesso stonerà un po'. In realtà ha fatto già una decina di ordini per adesso tutto tranquillo, qualcosina incassato, va bene. Ed ero nella necessità di dover partire, anche se c'è stata questa salita, perché se io prendo altri pezzi con salite simili e non me le fossi andato a tradare, ok? Vedete, rischiavo di non prendermi poi degli ottimi guadagni. È chiaro che la nostra testa, che è più orientata alla paura, al negativo, bla bla bla, questa ultima salita la vedeva magari come questa, dopo la quale poi è vedete c'è stato un po' di laterale o potrebbe arrivare una roba del genere, ma può sempre ragazzi e ragazze arrivare una roba del genere, ok? Tendenzialmente è ovvio, no? Oppure magari parto qui e per un po' di tempo mi subisco questo. Pazienza ragazzi e ragazze, pazienza. Allora, una via di mezzo, partire con site adeguate e capire che questo sia un progetto in messaging. Ora, io vorrei dire una cosa, no? Cristo si è fermato a Deboli ed io è sceso a Torino, no? Allora, qual è il problema ragazzi e ragazze del trading sistematico? Perché nel trading discrezionale ci mettiamo tanto di nostro, ad esempio ieri, no? Così comincio con euro-dollaro. Allora, ieri, ragazzi e ragazze, ieri noi facciamo una checklist, no? Una checklist che adesso parlo un attimino del discrezionale. Così vi lascio qualcosina, no? Allora, io trader discrezionale, ad un certo punto sono lì davanti ai monitor e decido se operare o meno. Allora, in questi tanti anni ho ricevuto, ma infinite volte, la domanda patidica. Parli, ma tu entri? Oppure, saresti entrato? Ecco, no, io voglio darvi una situazione che vi permetta di darvi da soli, in totale autonomia, questa risposta. E la mia pratica è quella di una checklist. Vi invito a scaricarvi dei programmi tipo questo, proprio per scrivervela per sei mesi, dopodiché ovviamente la fate a mente. Allora, nella mia checklist faccio, così, metto i punti long e i punti short. Ora, che cosa metto nella checklist? Allora, nella checklist ognuno mette quello che è, ok? Ovviamente. Però, secondo me, è buono mettere delle cose che siano tangibili, ok? In prospettiva, in previsione di poterla addirittura automatizzare, no? Perché se io metto i cicli, se io nella checklist metto i cicli, ma certo che vanno benissimo? Assolutamente. Se io metto Elliot, non lo scrivo tutto, se io metto Elliot va benissimo, ok? Fantastico. Però, secondo voi, se noi prendiamo uno stesso grafico, ok? Tipo quello di ieri, euro-dollaro, daily, no? Se io prendo quello di ieri e ragiono sulla open, o ragiono su Elliot, nella giornata di ieri, prendo 10 persone, 100 persone, 1000 persone, se parliamo di Elliot, non dico che su 10 persone si possano avere 10 punti di vista diversi, ma almeno, almeno, 5 la penseranno in un modo e 5 in un'altra maniera, ok? Se invece trattiamo il discorso dell'open price, ieri tutte e 10 le persone vedevano long, finito, basta, tangibile. Adesso, però, vi do le regole scritte, no? In maniera tale da vedere la giornata di ieri come esclusivamente long. Allora, che cosa andiamo a mettere, a noi nella checklist. Andiamo a mettere l'open price, i livelli bancari. Allora, l'open price è tangibilissima per tutti e per tutte. I livelli bancari, idem con patate, i pivot, per esempio, anche se non li sto utilizzando. Mettiamo le trendline, ok? Le trendline e a volte le onde di Wolf, però già sono un po' più complicate, ok? E, ad esempio, il prezzo medio, che assolutamente non è complicato, ok? Quindi, poi, se vogliamo complicare, se vogliamo complicare, possiamo andare a mettere, di livello un po' più complicato rispetto alle onde di Wolf, i cicli. E se vogliamo complicarci ancora di più, ma io lo faccio perché mi piace tantissimo la metodologia legata alle onde di Elliot, anche Elliot, ok? Però, ripeto, Elliot, i cicli, le onde di Wolf, Fabio, le vedo, non le vedo, è giusta e sbagliata. L'open price, ragazzi e ragazze, sopra la open è long, sotto la open è short. Prezzo medio, ora ve lo racconto perché è il motore di tutto il portafogli. Le trendline, non ne parlo perché sono una tecnica che veramente, mi dispiace, sono franco, oltre che Fabrizio, no? Sono franco e sincero, siamo una giornata open, non voglio regalare una tecnica che ho fatto vedere, cronologicamente parlando, che funzioni, questa tecnica qui, dal 2012-2011, ho fatto vedere in trading room delle cose a livello cronologico in tal senso. Quindi non ne parlo, i pivot non ne parlo perché personalmente li guardo o non li guardo, livelli bancari, open price e prezzo medio, ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Facciamo finta che una persona voglia nella giornata di ieri usare l'open price, long short, vuole usare l'open, i livelli bancari e il prezzo medio, ok? Allora, cosa importante per me è prendere almeno due tecniche, almeno due, adesso vi spiego il perché. Perché su base empirica, di esperienza, ok? Sono contento, ho 43 anni, sorrido, no? Però ho iniziato quando non avevo 20, sono passati 23 anni, tanta roba, ok? Tant'acqua sotto i ponti a passare. Bene, mi sento un ragazzino, ma è una frase che ci si dice, penso abitualmente, ad ogni età, però in realtà sono passati tanti anni. Bene, in questi anni che cosa ho convalidato? Ad esempio, l'open price? Mai si è potuta smentire, continua a funzionare. Certo, l'hanno, come dico io, e con lì ma con il periodo l'hanno un po' vaccinata, una volta era più limpida, ok? La sua pratica, il suo utilizzo. Oggigiorno bisogna essere un po' più scaltri, però l'open price è da mettere, ragazzi e ragazze, nel tuo trading discrezionale ed eventualmente anche nel tuo trading sistematico. I livelli bancari? Fantastico, già solo ieri ci hanno fatto ragionare solo ed esclusivamente in long, adesso poi per il penino vi faccio vedere, continuano a funzionare, sembrano essere. Attenzione, perché se vuoi fare marketing, se vuoi fare marketing, allora devi usare i segreti, i misteri, eccetera, però in realtà io penso veramente, parlandoci tranquillamente in amicizia di una giornata open, che i livelli bancari siano ancora un codice utilizzato da tantissime istituzioni, perché non è possibile vedere che continuino a lavorare in maniera pattescamente perfetta. Dopo li vediamo. E il prezzo medio? Ecco, il prezzo medio è fresco, il prezzo medio è fresco ed è la scoperta, l'intuizione fatta poco tempo fa. Ci lavoravo già da tempo, però mi mancava l'ingegnere che ho trovato, l'ingegnere aerospaziale Leo, che ha fatto una sorta di serie di algoritmi che autoimparano dal mercato e quello è un valore aggiunto inestimabile. Infatti dopo vi regalo dei trading system sul prezzo medio, secondo me nessuno, nessuno, nessamente le andrà a tardare in maniera sistematica, però del valore aggiunto ve lo porterete a casa. Allora, io su base empirica, nella mia checklist, ho sempre gradito il 2 a 0, io l'ho sempre chiamato il 2 a 0, quindi è ovvio che per avere un 2 a 0 sia necessario avere almeno due tecniche. Allora, se io ho due tecniche, supponiamo che sono in un certo punto, come adesso, come adesso, in questo momento qui, dalla open, cominciamo a parlare della open, dalla open il prezzo è salito poco e sta scendendo. Questo è un punto a favore dello short, ok? Benissimo, supponiamo che l'altro punto sia il prezzo medio e che mi indichi invece una possibilità long. Allora la metto di qui. Allora in questo momento qui non ho un mercato inefficiente da poter colpire i fianchi, da poter tradare. Non ce l'ho. Quindi che cosa faccio? Ci sono stati dei periodi dove stavo lì e mi leggevo un libro, quindi la mia esperienza appunto è stata che ad un certo punto della mia vita, perché mi faceva piacere condividere tutte queste cose che facciamo, ma almeno per quanto mi riguardi, sono sempre stato additato, ah ma fai trader, fai trader, fai trading, oh mamma mia, allora basta, mi sono rotto le palle, non ne parlo più, però ne voglio parlare. Allora sull'ondata della nascita dei blog, 10, 12, 15 anni fa, ho detto, ma mi faccio anche un blog e vediamo come butta. E ha buttato onestamente bene, ne è venuta poi fuori un'altra attività imprenditoriale, no? Però, prima, prima, ad esempio c'erano quei momenti dove, con una checklist che mi diceva stai flat, ok? Attenzione, forse è bene dire una cosa, tutte le volte che mi sono messo contro alla checklist, no tutte no perché può anche andarti bene, ma mediamente parlando ho preso schiaffi, allora ad un certo punto la checklist per me è diventata una cosa imperativa da seguire nel mio trading indiscrezionale, cioè se voglio tradare indiscrezionale oggi, io mi faccio la checklist, poi è chiaro che dopo che la fai per un po' di mesi la fai solo mentalmente, ok? Però la sto trasmettendo ogni giorno, quindi la vado di nuovo a scrivere. Allora, tutte le volte che mi sono messo contro la checklist, mediamente le ho buscate, allora ad un certo punto ho detto, se la checklist non mi dà benestare, non vado a cercare un pattern per entrare, io bisogno di una checklist che mi dica 2,0 per i long o per gli short, da lì poi troverò un innesco, il breakout di un livello, una chiusura sopra o sotto un livello, ma lo vediamo dopo, ok? Detto questo, se mi diceva la checklist di rimanere flat, si rimane flat, ok? Quindi in questo caso qui è un esempio, se invece noi avessimo l'open price sui massimi, quindi un punto per gli short e facciamo finta il prezzo medio, o cambiamo i livelli bancari, mi diciamo c'è solo short, allora io metto di qui, sto usando due tecniche, quindi 2,0 da lì sono operativo per entrare short. Allora quello lo vediamo dopo, perché poi quello lo vai a vedere su un time frame più piccolo che il daily, ovviamente. Quindi la checklist è quello che qualcuno o qualcuna chiama il tema di giornata, cioè io ho bisogno in una forma di statistica, ovviamente, di trovare quale potrebbe essere l'evoluzione open to close, cioè oggi la close secondo me è più probabile che sia sopra la open o sotto, perché se secondo me è più probabile che sia sopra, allora cercherò poi di entrare nel punto più millimetrico possibile, cercherò, ok? Potrò anche essere un po' più di larga manica con lo stop loss. Man mano che praticherò la checklist e vedrò che ci azzecco, nel senso che oggi secondo me chiuderà più in alto di dove aperto o viceversa e vedo che ci azzecco, allora trovo confidente con me stesso, con le tecniche, con il mercato e quindi non sto lì a usare necessariamente uno stop loss millimetrico che viene puntualmente preso, perché qui, perché là, magari ne parliamo dopo, ok? Quindi, detto questo, è chiaro che se le mie tecniche fossero open price, livelli bancari e prezzo medio, io per poter operare ho bisogno che tutte tre queste tecniche siano da una parte, perché se una sta di qua, fa due a uno che fa uno a zero, no? Cioè uno pulito, non mi basta. Allora in questo caso qui vado a vedere, magari che ne so, c'è un'onda di walk, faccio un esempio, ribassista, allora la metto di qui, allora ho tre punti per lo short, un punto per il long, tre meno uno fa due, sono pronto per operare, ok? Bene, spero di avervi dato un piccolo punto di vista, cioè scrivetevi l'operazione che state per fare, ok? Quindi oggi in real time possiamo usare qualcosina, ma partiamo da ieri un attimino. Allora, è chiaro, vado a fare delle ripetizioni a ragazzi e ragazze che vi fanno santinare le orecchie, per chi mi segue da tempo, sia ogni giorno che ogni tanto nei video che faccio nel web, però ci sono anche persone che magari questa cosa qui non la sanno, allora vi la vado a dire. Allora, tendenzialmente, vi dico una cosa che poi la riportiamo al prezzo medio e funziona il 70% delle volte, ok? Cheer. Allora, qui c'è un euro dollaro sul daily, no? Allora, se voi ci fate caso, le candele che poi tenteranno di allungarsi al rialzo o al ribasso e tenderanno a chiudere sui massimi o sui minimi, hanno dalla open una blanda discesa per poter allungarsi al rialzo. Quindi le candele lunghe e rialziste che cercheranno di chiudere sui massimi, ovviamente dalla open scendono poco, tendenzialmente, tendenzialmente. Poi ci sono come questa che non era scesa tanto e non ha chiudito sui massimi, ok? Questa qua è proprio una di quelle perfette. Questa abbastanza si avvicina e anche questa, ok? Benissimo. Ovviamente, al contrario, le candele che tenderanno ad aumentare il range verso il basso, verso la discesa e a chiudere verso i minimi, sono al contrario. Quindi anche questa, ad un certo punto io me la sarei giocata al ribasso. È chiaro che se sono qui, ecco cosa importante, nella checklist il range medio. Ok? Questo è fondamentale. Poi il penpenino, ripeto ragazzi e ragazze, quando sono concentrato per tradare, parlo di meno, quindi ho la parte del cervello attiva per fare, diciamo, i calcoli, che non è quella che mi serve adesso per cercare di trasmettere anche un po' di sensazione, un po' di rilassamento, un po' di piacere. Ragazzi e ragazzi, una giornata per me distensiva, il portafoglio è partito, adesso ci sono venute in mente delle idee pazzesche. Stanotte ho guardato delle cose sul prezzo medio. Per me ormai, ragazzi e ragazze, il dio è sceso in terra e il prezzo medio. Ok? Quindi detto questo, allora le giornate che dalla open salgano poco tenderanno a allungarsi come potrebbe anche essere questa, verso il basso. Ok? Benissimo. Quindi questa è una cosa importante da mettere. Ora, detto questo, è ovvio che sia necessario mettere anche il range medio, nel senso io devo avere un'idea di quanti pips, mediamente o punti si facciano ogni giorno. Allora, personalmente, anche qui tramite prova d'errore, poi ognuno deve provare a sperimentare, io ho provato ad usare il range del giorno prima, cioè per la giornata attuale usavo il range del giorno prima, un giorno. Non mi è piaciuto facendone dei test. Poi ho usato tre giorni, ma devo dire che poi mi sono stanziato da anni sui cinque giorni. Quindi io praticamente che cosa faccio? Ho un banale indicatore che fa massimo meno minimo di ieri, più massimo meno minimo di due giorni fa, più massimo meno minimo di tre giorni fa, più massimo meno minimo, quindi fa il range degli ultimi cinque giorni, fa la somma e fa la media, quindi fa diviso cinque. Quindi se io mi aspetto che anche oggi si faccia il range medio, non so, di cento pips, allora questo collima esattamente con il discorso dell'open price, perché sostanzialmente per me la price action sono due candele, due famiglie, ok? Due famiglie. Una volta ne usavo anche una terza, ma oggi giorno ho veramente due famiglie, e sono le seguenti. Se io tutti i giorni faccio un cento pips, che potrebbe essere un segmentino lungo così, quindi lo faccio oggi, lo farò mediamente domani, eccetera, eccetera. Allora da qui ragazzi e ragazze non è che si abbiano tante possibilità, ovvero se io apro qui e dalla open scendo poco e inizio a salire, faccio la freccia che va in salita e io mediamente farò cento che questa stanghetta, è chiaro che ragazzi e ragazze se scende poco dalla open e comincerà a salire, ad un certo punto, per quanto io possa essere un contrarian, vado a cercare il contrarian sulle discese intraday, quindi cerco un eccesso ribassista per andargli in contrarian, in intraday, a favore di un tema di giornata long, cioè va bene il contrarian, ma non così out e chiusi, quindi questa è una famiglia, nel senso che apre qui, scende poco e inizia a salire, prima ti accorgi che dalla open siano scesi poco e stiano salendo e prima hai un valore aggiunto su base statistica nell'andare long, però attenzione, attenzione, questa è una parte da mettere nella checklist, l'open price, pesa 1, poi ne avrai almeno un'altra, ma meglio verne 3 o 4 o 5, così sei più operativo, ok? Operativa, quindi detto questo, in questo momento dalla open, dalla open, vedete che oggi l'euro dollaro per adesso, no? E' salito poco, allora io non ho la sfera magica ragazzi e ragazzi, ma per non saperneggere ne scrivere, vado indietro e vedo che le candele che dalla open sono salite poco, ok? E mediamente poi tendono a scendere e allungare il loro range al ribasso, ok? Poi ci sono anche come questo martello che effettivamente è sceso fino a qui e poi è ritornato, si è rinsalito, no? Caro, se è sciolto qui, eh, me lo prendo sul muso, no? Ma ci sta, però vi lascio una delle mie prime verità, ed è la seguente, allora, il problema sapete qual è ragazzi e ragazze, parliamoci calo, se no stiamo qui a girare in fondo al nulla. Allora, io non, diciamo, buffo perché mi dispiace anche dirle queste cose, però forse è meglio dirle, no? Tanto le sappiamo, si sanno, per cui è inutile non dirle. Allora, il discorso è questo. 9 persone su 10 con il trading non solo non hanno fatto i soldi, ma li hanno fatti fare all'1 su 10, ok? O ai 10 su 100, eccetera, eccetera. Questa è una mara verità, ok? Questo è brutto, no? Perché la pubblicità in internet rafforza questa illusione, no? L'altro giorno ho visto su Facebook uno screenshot dove, infatti oggi vorrei leggere un po' con voi le giuste metriche, dare tre metriche da leggere per non farsi abbindolare, dove si poneva, no? su quello screenshot, il focus su un guadagno estremo, no? E se aveva un profit factor di un numero che non voglio neanche dire, ma qualcosa intorno al 200. Cosa vuol dire un profit factor intorno al 200? E guardate che abilità mi sto prendendo in giro, o di passare da un argomento all'altro senza tenere fio del discorso, quindi spero che riusciate a seguirmi. Allora, un profit factor di 200 vuol dire che ogni euro che tu scommetti in un trade, long o short che sia, te ne restituisce 200. Ma può esistere una roba del genere, ragazzi e ragazze? Sì, su 50, 100 trade, forse 150, poi magari non ne hanno neanche stati fatti quei trade, era solo un backtest, no? Quindi overfittato, overfitting ragazzi e ragazze, riusciremo a parlarne di oggi? Spero di sì. Allora, ragazzi e ragazze, questa è una boiata, ok? La vediamo dopo quando vedremo un po' di nettriche. Quindi, quello che voglio dire, per chiudere il discorso, buongiorno a tutti, sull'open price è questo. Allora, se un trader ha intenzione di bruciare il conto nei prossimi tre mesi, nei prossimi sei mesi, nei prossimi dodici mesi, e già siamo al limite, ok? Questo accade al 90% degli esseri umani che vadano a sfidare i mercati, con un po' delle tecniche che non stanno niente in terra, del tipo l'analisi tecnica, no? Perché io vedo il monviso, la catena montuosa delle arti, insomma, la parte del monviso, per chi, insomma, è vicino a me, ha capito, però se voi quando rientrate a casa, no? Se si può uscire, si può anche rientrare, magari state andando a casa e vedete, magari al tramonto si vede bene, no? Si vede magari il profilo, no? Di una montagna. Bene, allora traccio questo punto, no? Che era qui così, e questo è un testa a spalle, no? E da qui si innesca, cioè, quello che voglio dire è che l'analisi tecnica vi fa vedere delle cose che puoi vedere su qualsiasi grafico, anche sul grafico delle vendite della Coca-Cola, ok? O di qualsiasi altro prodotto, quindi che valore aggiunto ha, punto di domanda, ok? Quindi, detto questo, allora cerchiamo di prendere quella parte di analisi tecnica che anche molti istituzionali utilizzano, vi ricordo sempre quella frase che ho ricevuto in Lombardia presso una delle istituzioni più forte, la più forte sicuramente in Italia, noi fanno qui, se no poi vi dico, cioè ci arrivate, mi fa piacere mantenere un po' di privacy per loro, comunque una delle più forti sui titoli italiani, ok? Benissimo, appena incontrato il capo dei capi, mi ha detto, Fabrizio, l'analisi tecnica non ti renderà ricco, ma un 10% di analisi tecnica la devi conoscere per non diventare povero, 10%, poi mi ha reiterato la stessa frase con l'analisi fondamentale, l'analisi fondamentale non ti renderà ricco, ma un 10% per non diventare povero devi conoscere, quindi è buono sapere ragazzi e ragazze, in quel 10% io ho fatto una dispensa di 31 dati macro, analizzati su base statistica, ma quantomeno in quel 10% metteteci che cosa? Il fatto che se alle 2.30 c'è un dato macro, voi non apriete un trade alle 14.29, semplicemente già anche quello, ok? Perché è veramente una scommessa altrimenti, no? E poi l'80% ovviamente non stiamo qui a discutere, è quello che utilizzavano e che utilizzano ancora tutt'oggi loro, sicuramente in quel 80% c'è scienza, quindi matematica, statistica, bla bla bla, analisi quantitativa, bla bla bla, eccetera eccetera, no? Quindi quello che voglio dire, che ho già provato dire due volte, ma adesso lo dico, è che chiaramente se un trader va all'arrembaggio, no? E ci prova, sbagliando le site, sbagliando tutto, non potrà mai percepire la potenza dell'open price, non potrà mai percepire la potenza del prezzo medio, scusate sono imperativo, ma è così, non potrà mai utilizzare l'interesse composto, il compounding, non lo potrà mai utilizzare, perché se perdo, come cacchio faccio a rimettire gli utili? E soprattutto l'interesse composto, ciao Mario, grazie, grazie a te, grazie di cuore, e soprattutto come potrà utilizzare la magia dell'interesse composto? L'interesse composto viene fuori ad un certo numero di operazioni fatte, ma per fare un certo numero di operazioni deve rimanere sui mercati finanziari per tanto tempo. Allora, quello che voglio dirvi è questo, io sono sicuro di questa cosa che vi sto per dire, se un trader per tutto un anno, 12 mesi, stiamo parlando di tendenzialmente in 3 days, quindi ogni giorno quell'uomo, quella donna si mette in postazione e decide di cliccare, o long o short, se voi per tutto quest'anno, da adesso, 21 maggio fino a 21 maggio 2021, starete long sopra la open, cioè voi sopra la open opererete long e al contrario sotto la open opererete short, voi vi portate a casa un vantaggio è innegabile questo, è innegabile ragazzi, è innegabile, ok? Ma se voi penserete o state già pensando che lavorando long sopra la open ne farete giusto il 99,99% allora cambiate canale, quindi questo vantaggio è un vantaggio di 1, 2, 3, 4, non dico 5, dico 4 punti percentuali, cioè se io normalmente alla fine dell'anno andrò tirare giù i numeri e avrò lavorato long sopra la open invece verso short sotto, avrò avuto ragione usando la open un 53% delle volte contro un 47%, questo è quello che ti lasciano raccogliere, questo, poiché tutti vorremmo, tutti vorremmo trovare il furgone portavalori che non si sa per quale motivo si sia ribaltato sul suolo pubblico, le porte si siano spalancate, passiamo di lì, troviamo 5 sacchi con 1, 2, 3 milioni di Euro dentro sul suolo pubblico, li possiamo prendere, quello tutti lo vorremmo fare, ma ragazzi, ragazzi apriamo gli occhi, cioè ormai il 90% degli ordini sui mercati finanziari passa attraverso delle macchine, attraverso dell'intelligenza artificiali che stanno iniziando a provare dei sentimenti, mi fa paura, ma è così, i computer, mi sbaglio sempre il nome, ma penso quantici, che hanno a disposizione, una volta anche gli hacker più bravi lasciavano perdere di provare a craccarti le password del tuo conto bancario, per quale ragione? Perché per tutte le combinazioni che c'erano, così do una linea guida che fa paura, però è questa, per craccarti le tue password sul conto bancario ci mettevano da 2-3 anni, quindi lasciavano perdere, perché tu in 2-3 anni lo puoi chiudere, lo puoi riempire ma anche svuotare il conto, insomma, facevano altro. Ora, lo stesso, voler craccare le password con i computer che ci sono, quelli quantici, ci mettono 10 secondi, e quei computer secondo voi non li usano qui? E come mai? Fabri, ma mi vedono? E certo, sanno perfettamente cosa andrei a fare, cioè, sanno perfettamente che cosa andrei a fare, finito ragazzi e ragazze, quindi l'intraday, soprattutto se è stretto, ogni giorno fate quello che volete, io sto facendo vedere ogni giorno, io ho di umiltà e in realtà di felicità, in funzione anche del messaggio scritto di Marco stamattina alle 9.07, grazie Fabri ho fatto giornata, grazie a te Marco che mi hai ringraziato, ci mancherebbe altro, io sono qui per questo, però se da un lato è vero che si possa continuare a far bene, per fare bene occorre un attimino aprire gli occhi, quindi secondo me se io faccio un atto di umiltà e penso di avere dei valori aggiunti intorno al 53%, allora poi sulla fine rimane il guadagno, se io penso di voler fare l'equity quella così, tutte dritte, che vincano sempre, prenderete solo delusioni, illusioni, riferirete nel profondo della vostra anima e rimarrete pura bocca asciutta, quindi ragazzi e ragazze un attimino un ritorno sulla terra, con i piedi per terra, allora chiudiamo il discorso sull'open price, è molto semplice, tutte le volte che tu veda ad un certo punto della giornata una piccola salita sopra l'open e sta andando giù, è meglio operare short, tutte le volte che tu veda una piccola discerda dall'open e sta andando su, è meglio lavorare long, perché io anni fa sono passato al forex, per chiamarmi Fabri Forex, non potevo chiamarmi Fabri dax, perché io tradavo il dax, io ho iniziato subito con i futures, ho fatto il fib, in realtà inizialmente ho fatto il mini fib, poi ho fatto ovviamente il fib e poi il fib anche qui, a volte ragazzi lascio perdere perché mi fa ridere di gente che si va ad elevare a guru del trading e va a dire delle minchiate che non stanno nel cielo né in terra, tipo i mercati non sono manipolati, ah no, i mercati non sono manipolati, ma se vanno a manipolare la nostra intera vita, con le cose che peraltro non si vedono, ma voi l'avete mai visto un virus? Chiuso la parentesi perché non siamo qui a parlare di questo, allora fa molto più paura una cosa che non puoi vedere di una cosa magari enorme, avrebbe fatto meno paura vedere dei giganti che ci prendevano a schiaffi rispetto a una cosa che non puoi neanche vedere, quindi i mercati sono manipolati, punto, ma sono il primo che se avessi capitali su capitali su capitali su capitali li andrei a manipolare, ma ci mancherebbe altro, ok? Ci mancherebbe altro, quindi detto questo ho mollato anche non sono il fib, perché il fib scambiava quando lo tradavo 20-22 mila contratti al giorno e anche qui una istituzione della Lombardia e questa era una fonte certa che avevo avuto, ne faceva 13-15 mila di contratti al giorno, allora dico, cazzo ma oggi passa sul fib, passano 20-22 mila scambi e 13-15 mila li fa quella sim lì, io dove voglio andare? Allora salto verso il DAX e i tempi, adesso se riesco scambi e i tempi ne faceva 150 mila, 160, 170 di contratti ogni giorno, allora era meno manipolabile, meno manovrabile, ma comunque anch'esso è manovrabile ovviamente. Quindi ad un certo punto perché sono passato al Forex? Perché mi erano rotto le... ok? Di far che cosa? Di far questo, avevo percepito, studiato, anzi, insomma ho sbagliato la frase, grazie al Henry Williams, ok? Mi ero impadronito nella tecnica dell'open price e avevo percepito la sua potenza e quindi mi giravano le perotas a non usarla. Perché non lo usavi sul DAX? è semplice, perché sostanzialmente il DAX apriva, faceva la open, ok? Poi a me servivano, buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, oggi è una giornata relax, ok? Quindi proprio sto raccontando anche alcune cose della mia vita, tranquillamente, eccetera eccetera, domani ragazzi e ragazze che entrano in room, belli svegli perché ho visto una cosa sull'open price che non ho testato, ma devo dirla a Leo e poi devo raccontare delle cose sul portafogli perché, insomma, se avete sentito già l'audio di Andre, ci sono delle novità fighissime, però ne parliamo domani, intanto a noi. Detto questo, allora io credavo al DAX, lui apriva, faceva i suoi su e giù, eccetera eccetera, quando capivo come, secondo me ovviamente, capivo secondo me come fosse impostata la giornata nei confronti della open, arrivava pranzo, cambiavano leggermente le dinamiche, poi ogni tanto non sembra vero ma anche Fabio mangiava pranzo e anche oggi ogni tanto lo mangio e quindi poi arrivavano gli americani, gli americani arrivano le 14, 13, 45, ok? Benissimo, arrivavano lì e mi sballavano la mia analisi sull'open price, mi sono rotto le valle, allora ho detto, devo trovare una presentazione e questa era il forex perché per quanto i volumi notturni, la volatilità notturna sia diversa ovviamente, no? Parlo di euro dollaro perché io tendenzialmente il forex l'ho sempre interpretato come euro dollaro, diciamo così, le prime ore di euro dollaro non sono quelle da dopo l'apertura di Londra, è ovvio, però comunque erano 7, 8, 9, 10 ore, no? Quando mi mettevo in postazione una mattina avevo 7, 8, 9, 10 ore di movimenti dall'open price e quindi cavolo era molto più stanziata la statistica sull'open price, ok? Quindi sono passato al forex per quello, oltre che per le tasse perché ai tempi non si pagava nessuna tassa a chi faceva trading intraday nel forex, ok? Quindi chiudo qui il discorso sull'open price, lasciandomi ancora un'immagine che si collega al range medio, quindi il range medio come vi ho detto prima lo utilizzo su base 5 giorni, ok? Secondo me va bene dai 3 ai 10 giorni, fate un po' voi, provate un po' a fare dei test, quindi una volta che io abbia un range medio che sia questo possibile massimo verso questo possibile minimo, no? Oppure questo massimo verso questo possibile minimo, allora capite bene che la price action è assolutamente semplificata perché se io apro qui, scendo poco, andrò a disegnare il mio range tutto sopra, se io apro qui e salgo poco, andrò e inizio a scendere, andrò a disegnare tutto il mio range sotto e quindi se io ho una potenzialità di massimo, una potenzialità di minimo, ok? E apro qui, ovvero è uguale, salgo o poi scendo o non cambia niente, facciamo prima salgo, ma di tanto rispetto a poco, è qui che parli mai tanto e poco, come fai? E vabbè dai, un po' di test, un po' di inventiva e troverai una quadra. Ora se lui mi sale di tanto, ok? E continua a salire, mi ripropone questa cadistica. Se invece ad un certo punto scende, sto facendo un intraday, no? Rompe la open e inizia a scendere, è molto più probabile che tanto sopra, tanto sotto e che quindi mi ritorni così. E quindi questa diventa la classica famiglia delle doji, delle spinning top e anche dei martelli, diciamola qui, che si contrappongono, queste figurine qua, questa famiglia, alla famiglia delle candele piene, quelle che aprono sui minimi e chiudono sui massimi o viceversa, ok? Quindi, chiudo dicendovi che se chiaramente si fa fatica a superare i 12 mesi di trading, perché si brucia prima il conto e ovvio che non ti cambia niente oggi andare long o short senza guardare la open. Ma se hai delle mire interessanti da distribuire negli anni, allora io ti dico che anno dopo anno è meglio che tu vada a lavorare long sopra la open e short al contrario. Salvo poi il buon senso del range medio, perché se io, e quindi quello va messo una cicliste, perché se io ho una giornata, no? Che mi apra qui, mi salga poco e inizio a scendere, io prima me ne accorga, vado short, ad un certo punto mi asseconderà, eccetera. Ad un certo punto però, occhio, perché se tra questo massimo e questo minimo si è fatto il range medio, ok? Dicevamo prima 100, allora cosa faccio? Vado a vedere, ha fatto il range medio. Postazione multi monitor, vado su un classico sito che mi offra la possibilità di vedere i dati macro. Allora, siamo sul range medio, ok? Benissimo. Ci sono dati macro? C'è qualche attesa per la sera, tipo il FOMC? C'è qualche cosa nell'aria? Chiaro, non sempre lo potrai sapere, no? Cioè, se arriva un tweet improvviso non lo puoi sapere. Però se io guardo la giornata come dati macro e la settimana vedo che non c'è più di tanto, allora io mi pongo una banale domanda. Perché se tutti i giorni faccio 100 pips, oggi dovrebbe farne di più? Allora, arrivato qui, che cosa faccio? Mi flatto, ok? Poi se lui prosegue, face bene, ok? Non si può prendere sempre, no, tutto il range che ti potrebbe aver fatto a favore. E addirittura, addirittura, caso specifico, se mi ha fatto il range medio e ci sono altre dinamiche e la checklist me lo va a permettere, posso anche provare a prendere di un rimbalzino long, no? Perché se io opero qui, faccio di nuovo l'esempio, faccio la checklist, no? Long, short. Allora, entro qui perché? Perché dalla open, questa è la open, no? E' salito poco. E sta scendendo, io mi accorgo di alcune cose, benissimo, quindi che mi potrebbero fare entrare qui. Benissimo, allora io dico la open e short. Poi facciamo finta che qui, cambiamo colore, abbiano rotto un livello bancario. Dopo ne parliamo perché i livelli bancari, ragazzi e ragazzi sono fondamentali. Per chi vuole fare trading intraday non potete non usarli, cioè sono vitali, che sono fondamentali. Quindi supponiamo che qui nella X gialla abbiano rotto al ribasso un livello bancario e che il prossimo livello bancario verso il basso fosse, non so, qui così, per esempio. Benissimo, allora io ho fatto delle ricerche, ho fatto delle statistiche che dicono che la mia frase è fatta, che sono tutti pattern, no? Si va da un livello bancario ad un altro. Ora, non l'abbiamo ancora guardato di oggi, ma chi era presente ieri sa benissimo che il long ha proprio fatto da un livello bancario ad un altro, ok? E questa è tutta roba vecchia, ma vecchio in questo caso è molto buono per quanto mi riguardi, perché è un vino che è invecchiato molto bene, ha acquisito molto più valore, che ha superato la prova del tempo. Allora, se io ho rotto qui, ok? Però l'inmerco magari ce l'abbiamo qui, io ho anche una X qui, perché da un livello bancario rotto si va al successivo e quindi in questo caso mi dà la via dello short, dall'open è salito poco, ho due punti short. In questo momento qui il range medio, ok? Non è stato disegnato perché da questo massimo, a questo punto dove sto entrando ha fatto, facciamo finta 40, quindi io so che gli manchino ancora 60, quindi il range medio non mi sta rompendo le scatole. Ad un certo punto scende e qui facciamo il range medio. Allora io metto una X di qui, perché il range medio è stato fatto. Quindi da qui metto una X, però vedete, mi rimane la X, allora mi metto la X del range medio, mi rimane la X dell'open price, ok? Quindi facciamo finta che i livelli bancari abbiano fatto il loro tragitto, quindi viene cancellata. Benissimo, allora siamo 1 a 1, palla al centro, fa 1-1, vero. Però facciamo finta che ad esempio su questo punto qui passi una trendline, quella che ha usato Marco stamattina, che è arrivato adesso, poi se avete voglia, vi riguardate questa giornata, così anche dagli inizi, magari facciamo finta che passi una trendline. Questo la disegno un po' male perché andare dritti. Benissimo, e faccio una cosa che noi sappiamo che debbano fare. Allora io ho il range medio, io ho la trendline, però ho ancora la open, che non cambia, ormai la open non cambierà più in questa giornata da esempio, quindi sono 2 a 1. Allora se io in questo punto qua riuscissi a trovare tra le cose che andiamo a riutilizzare anche un altro punto a favore dei long, allora facciamo finta, un triplo livello bancario, che quando capita lo utilizziamo, allora io metto anche il triplo livello bancario. Però vedete come durante la nostra giornata noi andiamo mentalmente, poi io ripeto, per spiegare questa cosa, la scrivo, la disegno, sono prolisso ma perché mi fa piacere goderne e cercare di spiegarmi bene, allora in questo caso saremmo 3 punti long e un punto short, 3-1 fa 2, 2-0 posso provare a prendermi un rimbalzo, ma con la consapevolezza del rimbalzo, perché comunque la giornata è nata con una open dalla quale si sia saliti poco, rischio dopo un rimbalzo di vederlo di nuovo scendere e chiudere sui minimi. Quindi dopo che ho preso un rimbalzo, magari fino a questo livello bancario, che era supporto ed è diventato resistenza, ho fatto questo, quindi ho fatto pelo e contropelo. Questo è quello che sto spiegando ogni giorno, adesso poi dalla prossima settimana voglio vedere con voi in 3D1 in diretta, quel pattern che vi ho spiegato funziona a bomba e quindi faremo poi un percorso in diretto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sia sulle trendline, comunque manterrei il venerdì come giornata per vedere il risultato da parte delle trendline, la scorsa settimana ha chiuso con un più 4%, utilizzo intraday delle trendline e ci aggiungeremo un'altra situazione, ok? Pianpenino vi trasmetterò anche quella. Perché faccio questo ragazzi e ragazze? Perché non vi porto queste cose nella tomba, ok? Spero di andare nella tomba tra molti anni da adesso, no? Però adesso le mie intenzioni e le mie mire sono su goderne un po' la mia vita, ok? Perché oggi ci sono, spero anche domani, ma boh. Allora sono passato sul trading totalmente automatizzato, no? Quindi se riuscite a reggermi come energia in senso simpatico e buono o non vi stia annoiando, è quello che vorrei far vedere poi anche dopo, no? Allora ci aggancieremo tramite il prezzo medio. Quindi, detto questo, queste cose qui funzionano, ok? Le ho utilizzate per tantissimissimo tempo, le posso utilizzare anche tutt'oggi, ma il requisito per usare queste cose in realtà e in discrezionale è concentrazione, lucidità, serenità. Allora, mangio in un certo modo, peso in un certo modo, magari faccio le dolce fredde o altre pratiche meditative. Quindi il trader discrezionale è un atleta professionista, ok? Quindi sera a sera ho fatto tardi, però il giorno dopo mi sento lucido, posso anche trattare, ma se il giorno dopo mi sento un po' nebbiato è meglio non cliccare, perché stiamo parlando di parecchi soldi. Detto questo, quindi durante la giornata si vanno a formare queste varie dinamiche che io ho chiamato la mia checklist. Va bene? Mi fermo qui. Quindi l'open price abbiamo detto, no? Ora, detto questo, faccio un altro esempio. Se ad esempio, giusto perno, dalla open fossero saliti non poco, io questo lo esplico come poco, poi poco o tanto ve lo codificate, ma forse lo saliti tanto, anche fuori in monitor, ok? E ad un certo punto mi fossi trovato qui, sempre sulla stessa trendline, sempre con la stessa dinamica avrei avuto anche questa X, non l'avrei avuto, perché dall'open sarebbero saliti tanto, e avrei avuto addirittura tanto sopra, io l'ho definito così, tanto sotto, e quindi da qui un ritorno fino all'open price stessa. La dinamica non è disegnata bene, la giornata sarebbe stata così, comunque avete capito. Apre qui, se sale poco e scende è il caso che abbiamo fatto, se invece apre, sale di questo, ad un certo punto scende più o meno, no? Di questa quantità, la fa sotto, ok? Da qui io, tanto sopra, tanto sotto, quindi mi ritorno, trovo un long da qui con un ritorno all'open price, non per prendere un rimbalzino come in questo caso, rimbalzino e poi so che devo scappare veloce perché mi chiuderà sui minimi, statisticamente parlando, invece qui proverei, se arrivo fino a qui, che è lo stesso punto qui, qui esco e me lo dice questo, invece qui non esco e me lo dice questo. Banale, semplice, ma funzionale. Funzionale in che termini? se rimani sul terzo, perché se tradi i prossimi due o tre mesi e poi bruci il conto, non potrai mai assaporare il valore aggiunto dell'open price. I livelli bancari. Livelli bancari, allora sposto solo un attimino una schermata perché volevo focalizzare solo l'attenzione sui livelli bancari. Ok, ecco. Allora, i livelli bancari. I livelli bancari sono una banalità, che addirittura, in forma agricola, programmato io, che non sono un programmatore, e sono queste linee di color magico. Ok? Ora, la statistica su queste linee è impressionante, poi non è la certezza. Ok? Scusate un attimo, prendiamo ancora anche la giornata di ieri. Ok. Ok. Colti i segreti. Allora, i livelli bancari sono impressionanti. Sono un codice a mio avviso. Ragazzi, ragazzi, non so se è vera questa cosa. Cioè, potessi metterci la mano sul fuoco e avere la prova del 9 lo farei. Però non lo so. Però vedo come funziona. Cioè, anche oggi, anche oggi, su questo livello bancario, che si è prolungato nella giornata di oggi, no? L'hanno sentito qui, l'hanno rotto e lo hanno pulvercato. E guarda caso ci hanno fatto proprio due le spike. Ok? Quindi la regola direbbe che da un livello bancario tenuto si vada a quello successivo. In questo caso questo. Ok? Poi, siccome l'hanno già fatto ieri, ho qualche dubbio. Ed è il dubbio dell'avere vissuto infinite ore di volo sui mercati finanziari. Però la regola banale è proprio si va da un livello bancario ad un altro. Ok? Quindi, detto questo, è quello che vi dicevo nella giornata di ieri, no? Però ad un certo punto noi siamo qui, per esempio, no? Visto che l'ho lasciato segnato. Poi abbiamo fatto varie considerazioni, eccetera. Però a parte questo, no? Se io sono su questo rettangolino verde, faccio la mia checklist, long e short, no? A favore del long che cos'ho? La open, perché dalla open l'euro dollaro è aperto, è sceso poco, è iniziato a salire. Io sono qui, perché questa è la fase notturna. È quello che vi dicevo prima, no? Arrivo qui alla mattina e cavolo, ho un casino di grafico già disegnato in termini temporali. Poi a volte sarà magari un blandissimo laterale, un insulso laterale, altre volte invece no, come ad esempio ieri, no? Quindi arrivo qui e io nella checklist metto dall'open, è iniziato poco. Siccome il range medio ha 5 giorni e 78 pips, allora io faccio così, sono qui, misuro fino a qui, ha fatto 27, 28, ho 30 pips, allora da qui per arrivare a 78, 80 ci sta questo livello bancario. Sì, siamo a 57 e siamo 80 lassù, perfetto. Allora io da qui potenzialmente ho spazio fino proprio dove è arrivato, ok? Benissimo, quindi questo è un favore che ho l'open price. Poi, qui che cosa è successo? Che hanno sentito nella notte il livello bancario come resistenza, poi però l'hanno distrutta con la resistenza. E quindi, che cosa fanno i soldi istituzionali? Vanno a cercare i livelli bancari. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, è così. E questa roba qui è vecchia, vecchia, ma continua a funzionare. Quindi, siccome da qui hanno accelerato e sono saliti bene, hanno vinto l'inerzia, io sono qui come spettatore che arriva lì, perché insomma non ci mettiamo al pc alle 3 di notte per tradare, ok? Dico, l'open price è l'hombre, segnata. Hanno superato l'inerzia, sopra questo livello bancario, statisticamente parlando andranno a questo, quindi ho spazio e un altro punto, 2-0, perfetto ragazzi e ragazzi. In questo punto qua, che cosa metterei, o che cosa metteresti tu, o che cosa mettereste voi come punto short? Cosa metto? Allora, l'open che uso è long, i livelli bancari è long. Posso andare a cercare cose più difficoltose, un ciclo, un'onda di wolf, va benissimo. Trendline, diciamo non ne parliamo, ma abbiamo fatto ieri tutta la didattica in realtà nel Cefra ed è stato letto perfettamente il grafico. Bene, allora faccio che saltare e andare al prezzo medio. Il prezzo medio ieri, quindi portatevi a casa questa possibilità. Allora, ragazzi, ragazzi, tutto questo portafogli qui, tutto, è stato creato sul prezzo medio, ok? Ora, siccome Cristo si è fermato a Debole e Dio è sceso a Torino, no? Però Fabri ha aperto tutte le religioni e tutte le filosofie, quindi ne parla volentieri, allora vi dico una cosa, vi dico questo, vi faccio vedere una cosa che ho fatto vedere ieri, ok? Vi faccio vedere questa cosa perché secondo me è significativa. Allora, prendo la prima piattaforma qui così, vi faccio vedere questa, oggi è flat, oggi non ha operato, ok? Però questa è, questa chiaramente è una demo, su Contoria non vi faccio vedere per adesso, questa è una demo dove sullo stesso broker tutti questi sono lì pronti per cliccare, quindi arrivano tantissime operazioni, oggi non ne sono arrivate, vedremo poi tra un po' di operazioni, magari anche la prossima settimana che c'è la presentazione di questo progetto nuovamente, dovrebbe essere martedì 26 alle 20.30, speriamo che entri in altri ordini, li guarderemo insieme, ok? Però vengo su questa piattaforma che ho già spiegato più volte, io ripeto, non vorrei fare nomi di broker, non li faccio, è fuori registrazione un nome, però se guardate in alto lo vedete. Allora vi voglio far vedere una cosa che ho fatto vedere proprio ieri, però secondo me collima bene. Allora, strumenti, centro storia, allora, vengo, si apre questa schermata, vengo su Eurofranco Svizzero, scarico il daily, in realtà c'è già stato fatto il download dei dati, arriva fino al 1999, lo esporto, lo salvo, lui mi dice sì perché l'ho già salvato, ovviamente l'ho già fatto io, però ve lo faccio vedere in registrazione perché secondo me potrebbe essere una cosa che ho detto. Quindi prendo Eurofranco Svizzero, apro l'Excel, io sono rustico ragazzi e ragazze, non sto lì a essere stra precisissimo, eccetera, no? Allora, vado nella colonna, metto, dato, testo in colonne, qua lascio così com'è, faccio avanti, metto qua la spunta sulla virgola, faccio qui, ok? Allora, togliamo questa piattaforma qua da sotto, allora, chiaramente, se vogliamo, togliamo la colonna B, togliamo, tanto non ce ne prega niente, togliamo la colonna F dei volumi, benissimo, aggiungo sempre due o tre linee per avere lo spazio sopra, e qua scrivo PM, prezzo medio, lo so che questa cosa l'ho già fatta 10 miliardi di volte, però secondo me è interessante comunque rifarla, e a forza di rifarla, diciamo, stanotte, diciamola così, in una specie di dormiveglia, mi è venuta l'idea per lavorare sul prezzo medio e domani ne togliamo in tre linee, ok? Allora, detto questo, il prezzo medio che cos'è? È semplicemente il massimo, allora facciamo una cosa, il massimo più il minimo, chiusa a tonda, diviso due, questa è la open, questo è il massimo, questo è il minimo e questa è la cosa. Vi faccio vedere Eurofranco Svizzero perché è fondamentale, guardate, io tiro giù il prezzo medio, adesso faccio un banale per l'in system sul prezzo medio, quindi mi metto qui e gli dico, inserisci formula, così anche chi è più novizia, mi sto registrando, potreste provare a replicarlo, e se proverete a replicare questa cosa che io sto facendo su questo foglio Excel, su qualsiasi strumento, andate sulle criptovalute, ok? A me girano solo che non ho abbastanza storico, perché non c'è abbastanza storico sulle criptovalute, perché lavora a bomba, ok? Prossimamente vi farò vedere, il problema è che ho pochi dati, quindi preferisco mettere in pista un portafogli basato su un test dal 2001, dove lo so anch'io che i mercati sono diventati elettronici dal 2008, le dinamiche sono cambiate, ed è proprio dal 2008 che ci fanno ancora di più il grande fratello, quindi Fabri, ma mi vedono che metto lo stop loss lì? Sì, sì, ti vedono, senza averne anche messo la telecamera in casa tua, ti vedono, ok? Perché calcolano tutte le possibilità e purtroppo noi esseri umani facciamo sempre le stesse cose, quindi siamo stra-prevedibili e quindi ci vedono in quel senso lì. Allora preferisco comunque mettere un portafogli in piedi dal 2001, anche se l'euro-dollaro del 2001 non è quello che c'è oggi, ok? Ma chi se ne frega? Quindi questo era per chiudere la parentesi sulle criptovalute. Ma funziona anche lì, e provate qualsiasi time frame. Allora, se questo prezzo medio, che io ce l'ho perché sono già al 6 di gennaio 1999, è maggiore del precedente, allora se è salito praticamente il prezzo medio, allora io cosa faccio? Ho comprato il prezzo medio del 6 di gennaio, e quindi è questo, no scusate, aspettate un attimo, allora, arriva, se questo è maggiore, allora se è vero, io ho comprato e quindi faccio la clause meno, cioè questo qua meno quello precedente, al contrario faccio F7 meno F8, vado short di prezzo medio, ok? Tiro giù. Guardate, perché adesso è importante, ma faccio l'equity, quindi questo è uguale al primo, e questo è uguale a questo, tutto lo stesso. Quindi, però lo so che l'ho già fatto, ma tipo un miliardo di volte, però sono persone nuove, e quindi lo previsco, ripeto. Quindi questo è l'euro franco slittero. Ora, vediamo se adesso guardando l'equity vi viene in mente qualcosa. Vi viene in mente qualcosa? Eh sì, parli, perché io nel 2015, a gennaio, vediamo un colore che si veda, so cosa è successo. Allora, questo è euro franco slittero il 15 gennaio del 2015. Potreste andarlo a vedere, ok? Bene, che cosa è successo prima del 2015 che c'era questa inefficienza? Si descrive da sola. Ma che cosa è successo dopo la perturbazione del 2015, 15 gennaio? Niente, che la inefficienza si è ripristinata. Se voi andate a fare questo discorso qui anche sul discorso dei GBP, tra la Brexit, eccetera, vedrete che l'inefficienza praticamente c'è da sempre e secondo me ci sarà per sempre. Allora, se io dovessi scommettere a partire dal sottoscritto, ok, che dopo 23 anni comunque magari dice mollo un po', no? La tensione del mio sistema nervoso con il trading intraday discrezionale dove ogni trade è un esame, perché, ok, lo sappiamo, se tradiamo sappiamo di quello di cui stiamo discutendo. Allora, dico, devo imbastire il mio futuro, che non esiste, però per carità è lì la barbura di vivere, cioè non agganciarsi troppo perché domani non so se ci siamo o se ci sono, però un po' a qualcosa mi devo agganciare, perché se domani ci sono vorrei continuare a mangiare e avere un tetto sopra la testa e vada bim e vada bam. Quindi, da qui ai prossimi 4-5 anni, ma no, ma cosa dico? Da qui ai prossimi 6-12 mesi, purtroppo, purtroppo chi inizia o chi ha già iniziato anche da tanto tempo, perché 12 mesi sono tanti, ragazzi e ragazze, quanto meno, oggi è il 21 maggio 2020, entro il 21 maggio 2021 il 90 e più per cento delle persone che guarderanno questo video in diretto, in differita, avranno meno soldi sul fondo, non c'è niente da fare, è così, è così, ci sarà sempre la maniera di riuscire a sabotarsi, e ma, e però era un periodo che ero nervoso e nervosa per quello, e ma mi è andata via internet, e ma qui e ma là, e intanto ti vai a sabotare e hai meno soldi, 12 mesi in 12 mesi. Benissimo, allora io ti dico un'altra cosa, siccome questa inefficienza, te l'ho fatta vedere davanti ai tuoi occhi, no? C'è dal 1999, su qualsiasi strumento, su qualsiasi time frame, non ne vale la pena di scommettere su questa inefficienza da farsi il naso e far fluire naturalmente le cose, sì che ne vale la pena, però ci vuole un attimino di comprensione del progetto, ed è per questo che vi voglio far vedere ancora qualcosina. Allora, ovviamente, ragazzi e ragazze, il prezzo medio non è una variabile che hanno vaccinato, ok? Perché se l'avessero vaccinata, questa epiti farebbe, insomma, cose brutte, invece è troppo bella, al di là di quello che è successo nel 2015. Ma perché non l'hanno vaccinata? Cioè non hanno trovato la contromossa, come hanno trovato la contromossa a tutta l'analisi tecnica? Non è proprio così, cioè proprio, sarebbe già dare un valore all'analisi tecnica. In realtà non ne ha, per cui non l'hanno dovuto trovare la contromossa, non funziona a priori, però la bastaldata dell'analisi tecnica è che funziona una volta su due, e quello è il problema. Allora tu non riesci a smetterla, no, di usare, perché eh però mi ricordo che quella volta che c'era la divergenza sullo stocastico e sull'adressivo ho fatto un sacco di soldi, e qui e là però non ti ricordi mai che in realtà il conto stia scendendo, no? Quindi detto questo, ci sarebbero altre cose che mi vengono in mente, magari diciamo dopo su un sito che vi voglio far vedere, detto questo, per me, per quanto mi riguardi, ne vale la pena di scommettere su queste nette tecniche. Ora, perché non l'hanno vaccinata? È semplice ragazzi e ragazze, perché il prezzo medio è una variabile che tu conosci a fine giornata, quindi è un po' come se guardassi il futuro, no? Ti faccio un esempio, che cosa ho fatto su quell'excel? Ho fatto così, qui, questo è il prezzo medio, per chi non lo sapesse, magari lo clicchiamo un attimo, semplicemente una media mobile ha un periodo, metti semplice esponenziale non cambia niente, ed è il median price, no? Quindi è il 50% di ogni giorno, no? Sostanzialmente. Guarda, allora qui è salito il prezzo medio, quindi che cosa succede? Che io compro il prezzo medio, il giorno dopo vendo il prezzo medio, e quindi ho guadagnato questo. Poi il giorno dopo, siccome anche qui, da qui a qui, più o meno, il prezzo medio è salito. Allora io che cosa faccio? Compro il prezzo medio, e il giorno dopo lo rivendo qua. Però il problema è che io questo prezzo medio non lo possa comprare, non lo posso comprare, perché so che il prezzo medio è lì, lo saprò a fine giornata. Quindi io a fine giornata avrei voluto comprare il prezzo medio, e il giorno dopo lo avrei venduto qui. Quindi non è possibile, no? Però che cos'è possibile? Comprare o vendere il prezzo medio quando ci fanno entrare, diciamo, con uno pseudo sconto, diciamola così, no? Nel senso che ad esempio ieri, perché avevo detto di prediligere il long? Per il discorso dei livelli bancari, rotto quello sotto si andava quello sopra, perché dalla open si era scesi poco, e perché il giorno prima, che cos'era successo? Guardate, il prezzo medio era qui, il giorno prima ancora, il giorno dopo era qui, quindi è tangibilmente salito, io a fine giornata dove comprerei il prezzo medio? Qui, ma in realtà lo compro molto meglio, perché ha chiuso sotto, quindi è questo il piccolo escamotaggio, no? Quindi il tuo prezzo medio in salita, se tu vuoi comprare sotto al prezzo medio, allora ti porti a casa il valore aggiunto. Ok? Quindi se io a fine giornata sono qui, e avrei comprato il prezzo medio qui, non è realistica la cosa, anzi è impossibile, ma se io a fine giornata sono in questa close e avrei voluto comprare il prezzo medio, visto che il prezzo medio addirittura l'avrei pagato più caro, lo posso prendere a sconto e me lo compro. Allora, nella giornata di ieri, il tema di giornata di ieri, cioè la candela daily ad un certo punto della mattinata, ad un certo punto della mattinata, quindi esattamente dove, per dire, abbiamo lasciato il rettangolino verde. In quel momento, checklist, long, short, allora, long, l'open price, il fatto che abbiano rotto qui bene il livello bancario e il successivo si trovava, o si trovasse lassù c'era spazio, long, prezzo medio long. Ok? Ora, per non farmi operare, devi trovare due punti, due punti short, perché se ne trovi uno, fa 3 a 1, 2 a 0, opero. Se ne trovi due, allora fa 3 a 2, uguale 1 a 0 e non opero più. Però qua tu trovami due punti, due punti short, no? E questo che vi invito a fare e che facciamo ogni giorno in trading room, per quanto riguardi il tuo discorso del trading discrezionale. Ok? Ora, detto questo, ritornando invece a questa dinamica qui, quindi ad esempio, no? Se oggi, visto un po' l'andazzo, se oggi la candela attuale chiuderà sotto al prezzo medio, che adesso è lì, no? E il prezzo medio, vedete, sta salendo, poi adesso siamo alle 11.15, stasera, mancano ancora tante ore, non lo so come saremo, però è per dire che se stasera chiuderà qui sotto, con un prezzo medio in salita, ok? Allora ci sarà possibilità domani, per quanto riguardi chi voglia tradare indistrazionale, nella checklist dovrete mettere un punto a favore dei nomi. Dovrete, se vorrete, ok? Quindi, da qui, ragazzi e ragazze, occhio a non far partire la testa, no? Nel senso che, cosa vi ho detto prima? Che se io lavoro sull'open price, ho un valore aggiunto 1, 2, 3, 4%, poi vi ho detto che c'è una cosa che funziona al 70%, ok? E poi vi ho parlato, non l'ho ancora detta questa, e poi vi ho detto del prezzo medio. Ora, il prezzo medio, ragazzi e ragazze, anch'esso vi può dare un valore aggiunto, ma non è la certezza, non è la certezza. Allora, il valore aggiunto, di nuovo, può essere un po' più alto dell'open price, ma non ci andiamo troppo distante, perché è questo che va detto, non far vedere delle metriche su 100 trade, 200 trade, magari in testa, che non stanno né in cielo né in terra, che sono illusorie, che vi propongono per farvi, non lo so, entrare in quel giro lì e poi bruciate i conti, che si è visto, si è visto. Allora, se io voglio investire un progetto serio nel divenire, e non sono Dio che è sceso da Torino, puntini puntini, ok? Allora, io vi dico questo. Io non so, ragazzi e ragazze, dove saremo tra 4-5 anni a saperlo, però io so questo, che da sempre il prezzo medio sulle serie storiche finanziarie è stazionario. Stazionario vuol dire, nella mia testa, perché parlando con un altro nemico ingegnere, mi dice, per me stazionario vuol dire questo, io ho detto, fai uno sforzo e stiamo parlando di trading, quindi per me usare stazionario vuol dire che cosa? Che è prevedibile, no? Cioè prezzo medio in salita, chiama prezzo medio in salita, prezzo medio in discesa, chiama prezzo medio in discesa. Faccio l'equity, l'equity si convalida, mi conferma questo, c'è stata la perturbazione del 15 gennaio 2015, ma dopo 1-2 giornate che vedo qui, si è ripristinata. Quindi ragazzi e ragazze, io scommetto su questo, poi ognuno fa quello che vuole, ci mancarebbe altro. Io scommetto su questo è l'efficienza, perché secondo me, tra 5 anni, il 90% delle persone che hanno visto, che vedranno questo video, avranno bruciato dei conti e qua saremo ancora invece a parlare di prezzo medio, perché quella inefficienza lì è troppo palesata, è chiaro, occorre un po' di intelligenza. Allora, partiamo da un primo punto di intelligenza. Se io penso che il prezzo medio sia al santo graal, cambiate canale. Se invece penso che sia un valore aggiunto, rimanete ancora in ascolto. Allora, questo vuol dire che cosa? Che per poter trovare il prezzo medio, allora, ci sono due possibilità, a mio avviso. Indiscrezionale, lo mettete come un punto nella vostra checklist long o short. Quindi nella giornata di ieri, vedo il giorno prima il prezzo medio in salita, la chiusura sotto, nella giornata di ieri metto un punto qua. Quindi è un valore aggiunto facile per tutti, per tutte, no? Perché nella giornata di ieri, i cicli come sono messi, di ieri, come è messo qua, lì, là, e ognuno ha la propria visione. Ma tutti, tutte, possiamo solo dire che il prezzo medio in salita ha chiuso sotto la candela del giorno prima. Questo è tangibile. Punto discrezionale. Se invece voglio delegare l'utilizzo del prezzo medio in una macchina, allora devo accettare che il prezzo medio mi farà fare su alcuni strumenti il 60% di operazioni giuste, ma non di più, non di più, ma è tanta roba, perché dopo vi spiego un altro trucchetto che fanno alcune persone per far funzionare un po' vari sistemi, eccetera, eccetera, no? Le martingale, le antimartingale e altre cose. Ve le faccio vedere matematicamente, ok? Anche a lei, sono un po' di minuti. Quindi, alzi la mano, alzi la mano in termini di trader, uomo, donna, discrezionale, io riuscirebbe a sostenere a mano, nei prossimi 100 trader, 54 operazioni giuste e 46 persi. Io non la alzo la mano. Allora, se io trado in discrezionale, il prezzo medio mi dà un valore aggiunto nella mia checklist. È un punto molto importante, ma è un punto. Poi c'è la open, ci sono i livelli bancari, e magari il range medio, e una o due altre cose, le trend line, eccetera, ok? Per esempio. Poi, se sono preso bene, ovviamente ci metto il mio cavallo di battaglia. Però, ok, quello è già più da studiare, da esplorare, invece queste cose qui sono tangibili e alla portata immediata, dopo una settimana che le senti riflette in termini, le puoi utilizzare immediatamente. Quindi, detto questo, alzi la mano su 100 trade, riuscirebbe psicologicamente a venirne fuori perdendo 46 volte, ok? Io non la riesco ad alzare, però ho fatto delle accettazioni. Se me lo fa una macchina, ok, se me lo fa una macchina, se la macchina mi fa un portafogli, ed è l'equido iniziale di questa giornata che vi facevo vedere, allora mi cambia la giornata, ok? Perché io non faccio più niente, in senso buono, ok? Nel senso che mi trada la macchina. Bene, allora da lì nascono nuovi pensieri, nuovi paradigmi mentali e diventa interessante, no? Allora, per chiudere la parte di prezionare, così ti ripeto un attimino il modello. Ad esempio, il DAX sul coronavirus con il prezzo medio ha lavorato che è la metà massa. Adesso vediamo se su questa piattaforma ce l'abbiamo il DAX Daily. Ora qui abbiamo fatto vari studi, varie considerazioni, no? Perché, ripeto, faccio tantissima didattica per spiegare queste cose perché non me le porto nella tomba, ragazzi, ragazzi, ok? Ora abbiamo parlato un po' qualche giorno fa del DAX sul coronavirus, no? Cioè, tutti lo hanno shortato, infatti miliardi, quelli che invece erano longer non lo scrivono, quindi sempre i soliti giochini, ragazzi, ragazzi, cioè cercate di aprire gli occhi a questo, ok? L'essere umano si frega con le sue stesse mani, si ricorda di un gain e si dimentica che sta bruciando i conti, no? Mi sembra a volte di ricordare, io guardavo sempre i Simpsons, che mi piacevano tanto, e mi ricordo una puntata non dedicata al trading, ma c'era anche un po' di trading, e mi ricordo sempre, no? Che al telegiornale dei Simpsons il giornalista diceva, e questo titolo che aveva comprato Homer Simpson, oggi sta facendo più 8%, non lo ricorderò sempre, proprio più 8%, e lui, ovviamente, Yahoo, eccetera, no? Con le sue stradazioni, e il giornalista diceva, oggi ha fatto il titolo più 8% dopo aver perso, nei giorni precedenti, oltre il 90% del suo valore, no? Quindi ecco qui, e questo che intendo dire, ci ricordiamo il più 8%, non ci ricordiamo il meno 90%, no? Quindi detto questo, invece una persona che oggi non sapeva la potenza del prezzo medio, ma adesso la sa, facciamo finta di poter tornare un attimino indietro, no? E ci andiamo a beccare il coronavirus, ok? Anche se non esiste, bah, non si sa, magari esiste, ma magari no, comunque a parte questo, allora, guardate, io ho il prezzo, ovviamente la linea verde è sempre il prezzo medio, magari mettiamo in un altro colore, allora è chiaro che se tu vai a fare a mano il punto bello, dici, cazzo, Fabri mi ha fatto un regalo enorme, però Fabri te lo fa il regalo enorme, cioè l'onestà che adesso pian piano ti fa capire, ok? Però è chiaro che se tu avessi tradato marzo con il prezzo medio, no? Perché poi in marzo lo potevi tradare con cicli, con cose più o meno scientifiche, più o meno mistiche, come vuoi, come vuoi, lo puoi tradare come vuoi, in fin dei conti sono i tuoi soldi, ok? Facci un po' quello che vuoi, però lo avessi tradato col prezzo medio, che cosa avresti fatto? Eh, prezzo medio in salita, chiusura sotto, ti facevi tutto questo long, open to close, poi qui hai, adesso tanto sono rimaste segnate, no? Qui hai un prezzo medio leggermente in discesa, chiusura sopra, questa qua la butti tutta short, qui hai un prezzo medio in discesa, chiusura sopra, il giorno dopo, oppure in close, no? Tutto short, qui hai un prezzo medio in discesa, chiusura sopra, tutta short, qui hai un prezzo medio leggermente in discesa, poi su questo broker puoi fare le misurazioni sul tuo e chiusura sopra vai short, qui hai il prezzo medio in salita, chiusura sotto e qua apre addirittura in get down vai long poi è chiaro che qui hai prezzo medio in discesa chiusura sopra e quindi tu qui in open vai short e te la buschi tutta sul muso poi vai avanti, ne parliamo tra un attimo qui hai prezzo medio in salita blandamente ma si vede che sale chiude sotto, quindi in open vai long e anche qui hai prezzo medio in salita chiusura sotto vai in open long e te la buschi becchi tutta sul muso poi finiamo queste qui hai prezzo medio in salita, chiusura sotto ti prendi tutta questa a favore qua devi prezzo medio in discesa, chiusura sopra tutta short la tenevi e questa la prendevi sul muso e questa la prendevi sul muso, ok? perché questo? Perché il prezzo medio ti dà un valore aggiunto ripeto, 54 58 per 100 quindi inserisci questa possibilità nel tuo trading discrezionale facendo la checklist e diventa un punto assieme all'open allora, le ripeto poi chiude il discrezionale sicuramente nella checklist per quanto mi riguardi ci riguarda un trading home la open perché è tangibile sopra e long sotto e short ricordati quel giochino che se scendono poco saliranno tanto se salgono poco scenderanno tanto se salgono più di poco e poi attraversano la open tenderanno a fare la doji ok? tanto sopra e tanto sotto i livelli bancari fondamentali il range medio ok? quindi questi sono fondamentali e il prezzo medio queste sono quattro possibilità tangibili per tutti e per tutte perché non devi avere chissà quale esperienza poi un pelo di esperienza in più le trendline come ho insegnato trasmesso condiviso a tracciarle nel tracciarle e questa è proprio la cosa più pronta per l'uso per tutti cioè una settimana sei operativo sei profittevole sei profittevole se conosci te stesso se conosci te stessa perché se tu devi entrare qui per esempio e sai che devi devi è basato sul tuo protocollo sul tuo piano di trading tenere fino alla close e invece entri qui ma poi te la fai addosso qui e ti flatti e qua devi entrare ad un certo punto sai che devi tenere duro e anzi non è vero devi lasciarti andare devi abbandonarti ai mercati no? lasciarti guidare da loro con fiducia se hai un inefficient tipo la faccio rivedere questa dagli fiducia perché negli anni ti ripagherà nel prossimo trade puoi guadagnare o perdere perché ne fai sostanzialmente no? 54-46 cosa vuol dire terra a terra una giusta su due quindi il prossimo trade lo fai giusto o lo fai sbagliato quasi come con il lancio della monetina ma all'allunga questa inefficienza sapete dove vi porto i soldi? ve lo dico tra un attimo ve lo dico tra un attimo allora perché è importante allora questa giornata qui no? se tu questa qua che la dovevi prendere tutta e ti compensa questa sostanzialmente di perdita questa qua la segui prima questa qua la segui la segui prima eh? perché la bacina porta scuota oi eh? sarà qualcuno eh? guardate su un secondo perché la devo stare ok rieccomi quindi se tu qui su questa non riesci a lasciarti andare perché hai della resistenza interna hai paura di perdere eccetera eccetera perché ti ti si risvegliano i demoni ok? quando stai trovando e addirittura magari ci metti del tuo e cominci a dire ma si sai che c'è medio medio no? tanto poi tornerai indietro e fai il pasticcio allora ragazzi e ragazze è ovvio che eh ok eh la miglior tecnica discrezionale in un contesto psicologico non da trader allora lasciate perdere allora lì si che può tornare utile una macchina che faccia tutto tutto totalmente in autonomia anche i settaggi anche i settaggi ed è stata questa la necessaria scoperta anche per darmi assolutamente fiducia nel progetto stesso per quanto mi riguardi e in prima persona ovviamente quindi detto questo queste sono cose tangibili ok? assolutamente quindi l'open price il prezzo medio il range medio e i livelli bancari le trendline alzo di poco poco il grado di difficoltà poi se mi appassiona eccetera ovviamente i cicli che sono un po' il mio cavallo di battaglia e Elliot che comunque amo e magari tra le trendline i cicli metterei gli onde di vuole ok? e le divergente soprattutto quelle nascoste non ne parlo oggi ma negli ultimi giorni le rivolgenze nascoste sul DAX hanno dato dei reclutati eccezionali ok? quindi molto molto bene ora detto questo chiudiamo il discorso distrazionale no? discorso sistematico il sistematico ragazzi e ragazze le fa tutte il sistematico le fa tutte ok? quindi qual è il problema del farle tutte? è che non è facile metterci mano perché vi faccio un esempio se io qui in open entro short ma secondo te che mi stai ascoltando ad un certo punto facciamo finta qui guardo solo un po' che c'è stata un po' di salita non mi accorgo che dalla open la candela è scesa pochissimo e quindi non la mia vocina interiore non mi dice parli fai qualcosa perché da qui è molto più probabile che si allunghi a rialzo e chiudassi i massimi sì che lo so e ora lo sai anche tu ma se faccio così allora faccio il trader discrezionale quindi devo essere lì in quel momento ma io non ho voglia di essere lì in quel momento voglio godermi giorno su giorno la mia vita perché ho scoperto di averne una sola allora voglio trovare la giusta quadra la giusta compromessa continuo a fare questa attività però non voglio stare più 8, 10, 12 ore in monitor e cliccare vada bim vada vada poi il giorno che lo voglio lo faccio ovviamente però senza doverlo fare necessariamente tutti i giorni allora quando sono qui dico sai che c'è meglio che mi vada a fare una passeggiata tanto statisticamente parlando oggi prendo variante negativa ma mi lascio andare sapete perché mi lascio andare perché abbiamo fatto di tutto credetemi a livello di matematica di ingegneria di statistica per provare a togliere queste candele qua erratiche dal nostro punto di vista no? ma se tu provi a togliere con qualsiasi escamotaggio soprattutto quelli visivi ti spaccano l'ossa perché? perché sui prezzi secondo me ovviamente ragazzi e ragazze il perché è figlio di questi miei 23 anni sui mercati finanziari dei confronti con qualche istituzionale dei confronti quotidiani con programmatori ingegneri eccetera quindi secondo me è la mia vita i prezzi i prezzi sono stati vaccinati infatti chi fa analisi quantitativa utilizza i rendimenti perché i rendimenti sono una variabile stazionaria i prezzi no quindi i prezzi sono stati vaccinati dall'altra parte sanno esattamente tutto quello che devono fare per fregare sia i trader discrezionali sia i trader di system che i trader piccoli fanno ok? che sono basati su analisi tecnica ma perché ragazzi e ragazze quotidianamente o quasi no? ci sono queste sporcate qui sopra questo massimo di un millimetro non so prima di andare su tutto il giorno aprono ingegneri e vanno un po' giù prima di andare su vanno a rompere questo minimo perché ci sono queste sporcate piccola sporcata qui perché quei piccoli breakout per dirne una sapete quanti soldi fanno entrare a mercato in termini di apro un trade nuovo perché un trading system trend follower piuttosto che butto stop un'operazione quindi butto dei soldi in stop su quel piccolo breakout per questo vi dico lavorate sui livelli bancari chiusa la parentesi questa è un po' una frase per chi mi segue tutti i giorni abbiamo parlato ieri e inizieremo poi questo studio con nuovi occhi oggi giorno perché i livelli bancari sono vecchi anche essi di vent'anni ma oggi giorno sono cresciuto ho anche altri punti di vista altri pensieri allora ragazzi e ragazze per esempio a giochi fatti questa è la bastardata della media tecnica perché sul grafico fatto ti traccio una linea ti traccio una media dovevo far così sì ma io devo sapere prima dove possa avere un valore aggiunto vi faccio un esempio se io qui ho il prezzo medio in discerna e qui ci chiude sopra e trado indiscrezionale facciamo finta che questo è il DAX in continua ha aperto è salito poco io arrivo la mattina qui così dico sai che c'è dalla open è salito poco sta scendendo magari ha rotto dei livelli bancari il giorno prima c'è le scamottage prezzo medio in discerna chiusura sopra vado short da qui e provo a tenere almeno fino a qui e poi vediamo ok cosa succede perfetto questo ora questo questo vuol dire che in questa giornata ne possa io venire fuori non andando short malgrado il prezzo medio in discerna e chiusura sopra ma ma magari non trado tutti i giorni magari un giorno vado a fare la spesa magari un giorno aspetto perché c'è un dato macro in attesa ma tutto questo non lo metti nel sistematico allora grafico fatto uno dice ma Fabri non vedi guarda le candele che ti pagano sostanzialmente questa short dalla open è salita poco ed è subito scesa allora se tu in questa giornata qui per esempio antiché entrare subito in open short aspetti che scenda di un po' ok e vedi non è scesa di un po' quindi non ti si innesca un breakout short e ti risparmi tutto questo ma tutto questo che io non mi sarei potenzialmente preso sul muso non torna sono furbi sono bravissimi non torna perché io comunque sistematicamente ad entrare qui mi risparmio questi punti di perdita ma tutte quelle che guadagno 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 meno questo perché sistematicamente questo non lo prendo più è lì che non fanno tornare i conti ragazzi e ragazze è lì voi provate prendete qualsiasi strumento e dite così in open vado long o vado short non cambia niente ok per prendere un pip uno uno allora voi ogni volta prenderete vado sempre long in open prendo uno 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 poi magicamente arriverà la giornata che dalla open non salirà neanche di un pip e tutto il giorno crollerà e con un 3 2 solo te mangi 80 fatti buoni e alla lunga rimanili così però poi hai i costi e quindi alla lunga con i costi scende è tutto calibrato perfettamente ragazzi e ragazzi cioè andagli a prendere è veramente su base sistematica difficile su base discrezionale attenzione perché non sono nato ieri è più facile vuol dire è più probabile stare al 75 80 85% di 3 2 giusti ma sto giocando la mia vita perché per farne 75 giusti su 100 sono lì 8 ore lì 8 ore con mal di testa sento mal di testa mal di pancia sento mal di pancia con tensioni varie eccetera ok bene non è più la mia scelta preferisco preferisco basare il mio futuro su una inefficienza che neanche è stata perturbata su euro franco svizzero nel 2015 si è ripressionata subito facendo l'accettazione del tipo io so che ho finito una prima parte poi possiamo leggere il donetica in croce forse ci sono curiosità domande che sono qui per questo allora ho fatto un'accettazione ragazzi e ragazze queste qua me le prendo tutte sul mondo perché se tu provi a toglierle togli anche quelle buone poi parli solo perché tu io però dico voi perché ci sono ingegneri matematici nel dietro di quinte solo perché voi non ci siete arrivati non è detto che non ci si possa arrivare benissimo ti auguro di trovare la soluzione io con 23 anni di esperienza di pratica sul campo in prima linea più essendomi attorniato di persone veramente valide e competenti provare a prenderli è difficile su base sistematica se non ti accontenti però arriva una magia e se mi accontento godo e godo tanto sapete dove si va a esplicare di nuovo scusate sono veramente mi piace dove si va a esplicare questa inefficienza non tanto sulla profittabilità nel senso non è che questa equiti questa inefficienza ti porta a vincere 9 volte su 10 no ti porta a vincere 54 su 100 però quando vinco vinco di più quando perdo perdo di meno allora chi è che non giocherebbe avendo la possibilità di truccare una monetina d'ore lanciamo la monetina io vinco scelgo la testa perché la testa è truccata vinco 54 volte e quando vinco tu mi dai 2 euro e quando tu vinci vinci già solo 46 ma non te ne accorgi perché ti sembra che una volta vinca io e una volta vinca tu perché 54 o 46 non te ne accorgi dopo un po' te ne accorgi però quando tu vinci io ti do 1 cavolo ragazzi e ragazze ecco lì finito ok quindi fatto questo fatto tutto ok da qui ragazzi e ragazze volevo farvi vedere di stare attenti ad una cosa darvi un valore aggiunto che noi usiamo cioè l'importante ragazzi e ragazze è la consapevolezza da lì si può ragionare insieme su tutto allora metto questo un attimo poi vi rispondo le domande metto questo un attimo ok allora prima di farvi vedere una cosa il segreto no arrivano i post quelli ovviamente marketing che essendo io competitivo vi dico sempre anch'io ho diciamo il mio ufficio marketing che ci pensa e fanno quello che devono fare no ovviamente per quanto piccola Fabriforex è una microscopica ma è una microscopica azienda quindi ha un po' tutte le parti che competono ad una azienda no allora il segreto no eccetera eccetera del trading qual è il segreto il segreto è intanto un attimino abbassare la testa e non pensare di poterne vincere il 90% di operazioni ok perché se io devo imbastire un progetto che da qui ai prossimi anni per salire quest'equity debba fare il 90% di operazioni di US cioè lascio perdere ma è realistica la cosa continuare a vincere il 90% delle volte c'è un trucco per vincere il 90% delle volte ve lo faccio vedere un attimo è un trucco così se vi piace ve lo portate a casa ok detto questo qui non vinciamo il 90% delle volte perché se io vado io vado nei trade vinco il 53,34% delle volte ok fantastico poi qui vorrei spendere per qualcuno che ancora non ha capito il drawdown del 50% ok quindi questo portafogli così dopo vi lascio in registrazione anche una formula che potreste usare per validare o meno dei vostri trading system se vorrete allora questo progetto qui vince il 53,34% delle volte però quando vince vince 642 di media e quando perde perde 402 finito ragazzi ragazzi è quello il trucco ma in realtà il segreto è quello di fare un portafogli guardate in quante tipologie è la stessa idea basata sul prezzo medio su tutte queste dinamiche funzionano perché Fabri se usi solo il prezzo medio devi fare un GVP 10HF long 4 5 6 7 short 1 2 se volete ve lo spiego anzi mi pare mi piacere troppo ve lo spiego ok quindi questo è il punto di partenza il segreto è fare un portafogli perché se io ho una monetina truccata ok che vinca il 53% delle volte quando vince vince 6,4 per dire e quando perde perde 4 allora alla lunga potrei anche avere un'equity brutta così ma sommata ad un'altra equity brutta sommata ad un'altra equity brutta ragazzi ragazzi è matematica verrà fuori un'equity belli e questo è il segreto ma è matematico perché se io vi vado a far vedere per dire avevamo prima Euro-Dollaro che peraltro uno che fa equity decisamente belli però guardiamo Euro-Dollaro con il prezzo medio sviluppato 10 expert poi li ho messi tutti poi una persona può dire ma a me non mi piace tradare GDP CHF non lo metto vabbè ognuno fa quello che vuole per me proprio per quello che vi ho detto è matematico che con queste metriche più ne metti meglio è pensando proprio al casino cioè al casino che cosa fa? come dico sempre come scriveva qui anche prima Antonio il casino ha la ruletta americana al 2,7% di valore giunto quindi noi abbiamo già il 3,4 il 3,34 perché al 2,7? perché ci sono 38 numeri sulla ruota perché c'è lo 0 il doppio 0 ma se tu metti il numero pieno ti pagano 36 volte perché ti pagano i numeri da 1 a 36 compreso lo 0 doppio 0 ma te lo pagano 36 poi per le chance che non vengono pagate 2,7 cosa fa il casino con questa monetina truccata? cosa fa? prende un tavolo? no ne prende tutti quelli che riescono a stare dentro il luogo fisico dove si è creato il casino cosa fa? apre solo sabato o domenica lasciamo stare da dopo l'avvento dell'online ma anni o sono no tutti i giorni per quante ore? 24 ore al giorno Las Vegas 365 giorni all'anno e hanno costruito quello che hanno costruito in Las Vegas quindi basta un piccolo vantaggio ok? allora questo piccolo vantaggio reiterato non dico infinite volte però anche qui ragazzi e ragazze io sfido chiunque a partire dal 2001 dove qui dobbiamo discutere del drawdown e del fatto che l'intelligenza artificiale stava imparando una volta che poi hai imparato è pulita meglio tutta l'equity allora il discorso è ma quante persone conoscete anzi no mettiamola al futuro secondo voi oggi siamo nel 2020 da qui al 2040 che fa po' da dirlo no? nei prossimi 20 anni ma secondo voi quante persone riusciranno a fare 10.500 trade senza bruciare il conto? umani poche poche allora saranno quelle che hanno fatto i soldi perché se io riesco a fare 10.579 operazioni nei prossimi 20 anni che hanno un valore aggiunto e ho la possibilità la fortuna anche la fortuna di non dover prelevare tutti i guadagni di lasciarli la macchina le reinveste qui non c'è il compounding se non l'elecchia andava a fare troppi soldi perché qua parte da 10.000 ok? lasciamo stare i guadagni che puoi fare nel tempo non sul singolo trade sul singolo trade e da domani mi puoi aprire 20 trade e perdere tutti i reinveste è assolutamente così infatti ho bisogno e gradisco aspettare un attimino a far vedere un po' i risultati perché parliamo magari tra 200 trade adesso ne ha fatti 10 2,5,5,2 al generale ok? quindi detto questo su quante persone scommettereste a partire da voi stessi che mi state ascoltando da qui i prossimi 20 anni di riuscire a fare 10.000 operazioni senza bruciare il conto di questo dovremmo discutere ma se io vado a prendere la singola equity posso anche dire io stesso visto che è mia che non è così magari bella long 1 euro dollar se ci ho cliccato ci metto un attimo a dare il risultato perché tutte queste equity intasano un attimo in un programma adesso ci sarà per dire un equity singolo vedete? queste equity qua singola sono il primo che non andrei a tradarla perché? è perché se io inizio a tradarla anzi studiamola da qui a metà 2006 fino a metà 2014 cioè non è che ha fatto chissà che cosa quindi ha fatto un laterale potentamente ma mentre faceva il laterale magari altri facevano questo quindi il segreto è mettere insieme tante e questo è il segreto se vogliamo dire parlare di segreti il long 2 è questa il long 3 è questa non sono equiti long 4 long 5 ok? dopo la vediamo la long 5 perché più basica di così non si può ok? quindi il segreto è metterle insieme ok? ora siccome penso di aver già dato parecchie info però ancora vorrei dare qualcosa vi faccio cambiare il discorso ancora un attimo poi ripeto vi leggo e concluderemo poi la mattinata insomma sperando di avervi dato un punto di vista quindi il prezzo medio mettetevelo da oggi in avanti in testa in termini di utilizzo nel vostro trading discrezionale ok? però non è santo grado mi raccomando ora se voglio fare una cosa che secondo me non tutti sapete ma chi mi segue ovviamente la sapete perché allora arrivo eccolo qua no sì forse allora devo trovare eccolo qua perfetto questo sito qua vi faccio vedere una cosa che chi mi segue ovviamente da un po' di tempo la sapete già ed è importante allora questo è gratuito è online e diciamo è un simulatore Monte Carlo detta proprio un po' così è abbastanza rustico non perfetto ha una inefficienza dentro se ci pensate bene dovete accorgermene però ha il suo senso allora io metto il numero di trade di mille il massimo che vi permette il massimo sono 100 equiti poi faccio l'otto fisso quindi metto un euro e lui parte con la simulazione eccolo allora se io cambiamo leggermente il discorso ragazzi e ragazzi cambiamo leggermente il discorso nel senso che allora se io rischio 1 per guadagnare 1 e questo mio sistema che rischia 1 per guadagnare 1 vince il 50% delle volte il gioco così l'ho definito a somma 0 è la linea nera è la linea più spessa ok poi ci saranno le persone che vedono il mezzo bicchiere pieno sempre sono ottimiste e quindi godono di buone vibrazioni anzi ottime e sono da questa parte e poi c'è chi sempre vedrà il mezzo bicchiere vuoto ok si troverà da lì però se non consumi tutti i soldi si incroceranno insomma quindi comunque la media è questa qua ok ora io mi sono inventato questo banale calcolo perché mi serviva a memorizzare come faccio a trovare il gioco a somma 0 con altre metriche punto di domanda allora facciamo finta io ho fatto questa formuletta faccio 100 diviso la somma di quanto io rischi per vincere quindi facciamo finta se io decido di avere un sistema che rischia 1 o rischi 1 per prendere 2 quindi il classico a volte sento nel web ma se io non trovo un 3 da almeno 1 a 2 non lo faccio neanche allora ma sai dov'è la tua base d'asta definiamola così di partenza sull'1 a 2 tu fai 2 più 1 che fa 3 quindi fai 100 diviso 3 fa 33 diviso a 33 lancio la simulazione e vedete che il gioco somma 0 ok ora vengo a ridere ora no ma io se non faccio almeno 3 volte il mio rischio non mi metto neanche lì a cliccare benissimo allora se io faccio di nuovo 100 diviso 3 più 1 che fa 4 100 diviso 4 se non sbaglio fa 25 ho 25 io faccio la simulazione e la linea nera sarà sempre lì benissimo quindi ora veniamo sul pianeta Terra cioè ritorniamo sul pianeta Terra ora dai ragazzi ragazze ma di cosa stiamo parlando perché se no continuate a prendere soldi perché si parla dei presupposti sbagliati ma dei presupposti matematici ora io ho codificato un'altra cosa perché mi piace fare questi studi per me stesso perché io vado avanti nel mio cammino nel mio percorso ogni giorno ci provo almeno benissimo allora io ho detto qual è il mio fattore di bravura 1,1 1,2 di più no cioè io rispetto all'entrare a caso dove se io entro a caso se io entro a caso rischiando 1 quindi io entro qui long per esempio che lui mi vada contro di 1 mi capita il 75% poi c'è quel 25% delle volte dove io entrando qui a caso lui mi farà 3 quindi io chi sono per riuscire a cambiare questi numeri matematici a cambiare la matematica sono una persona che da tanti anni sui mercati finanziari e si auto come dire analizza e dice a se stessa questa persona che questa è io io penso che con un ingresso long qui grazie ad una checklist che mi dica che dalla parte dei long ho la open dalla parte dei long ho i livelli bancari dalla parte del long ho il prezzo medio per esempio voi potremmo avere trendline wolf cicli elliot eccetera poi io ad esempio non ho mai approfondito GAN ma ci sta non ho mai approfondito tante altre cose ci mancherebbe altro quello che più mi risonava l'ho studiato il resto benissimo io con queste cose qui la checklist posso dire che sono più bravo rispetto alla monetina di un 10% di un 20% ma non sono il doppio più bravo della monetina ok quindi bagno di umiltà allora se io fossi bravo un 10% in più sul lungo perché non è brevissimo tutti abbiamo fatto 10-13 giusti su 10 qualcuno ne ha fatti 20 giusti su 20 secondo me se ne possono fare indistrezionare 100 giusti su 100 con dei trucchetti che adesso magari possiamo vedere si possono fare 100 giusti su 100 ma non regge la baracca e ti stressi che la metà basta preferisco stare più rilassato e vincere 53 su 100 parmi mi stai dicendo che ti rilassa di più vincere 53 su 100 che non il 99,99% si perché per vincerli tutti o quasi devo fare dei compromessi devo cercare dei compromessi che non mi interessano cioè non mi interessano cioè chiaro vorrei essere multimiliardario perché così mi faccio i miei aziematti ma se per essere multimiliardario in euro devo accettare dei compromessi che non mi vanno bene preferisco non esserlo quindi ognuno vive la vita secondo le proprie aspettative convinzioni quindi allora io adesso faccio prendo la raccolatrice perché non ho voglia di intrasarmi neanche con un banale calcolo allora io faccio rischio 1 per prendere 3 la base d'asta è 25 faccio 25 per sono più bravo della monetina 1,2 ma sono molto bravo 1,2 quanto fa? allora io vinco 30 e cosa viene fuori? vi bastano? questi sono equiti genuine poi chi è più fortunato col mezzo bicchiere pieno e le giuste vibrazioni è sempre al top chi la vede un po' più grigia alla vita dai ci si lavora però comunque matematicamente ora cosa si vede ogni tanto nel web? o cosa si sente dire? ah io accetto solo se rischio 1 per vincere 3 e vinco il 70 all'80% del volo 70% qua ma cosa viene? farvi un po' capire 70% osti cioè capito? non stanno in cielo o in terra ok? perché non puoi 1 a 3 battere i mercati il 70% del volo è matematico non si scappa non lo dice Fabri ragionaci ok? quindi da qui che cosa succede? Brady dice ha visto un fenomeno che diceva 1 a 4 con l'87% di vincita quindi 1 a 4 puliamo un attimo cioè l'1 a 4 sempre per fare il conticino tu fai 100 diviso 4 più 1 che fa 5 quindi tu parti da una base d'asta la definisco così così ci ricordiamo vinci il 20% delle volte guarda la linea nera spessa che è la media vedi? è matematica non è un'opinione tu vinci il 20% delle volte entrando a caso quanto puoi essere bravo? il 10? il 20%? ok? quindi allora fai il nuovo 20 per 1,2 24 tu vinci il 24% delle volte vivi da da una babbo o se si può dire da una babba ok? finito basta queste sono curve reali Brady dice questo fenomeno vinceva l'88% delle volte mettiamo 88 fantastico se uno vuol credere agli asini che volano può anche farlo ok? un'equity così non ce l'ha nessuna istituzione presente sul pianeta terna salvo quelle che fanno insider trading e sanno le cose prima fanno gli hft quelli di lastardi che fanno già la transazione cioè insomma la transazione è già avvenuta sembra un po' un assurdo ma hanno connessioni più rapide e si mettono in mezzo quindi non possono perdere per quel pip o tic che li possono prendere esiste questo? dai quindi qual è un trucchettino che spesse volte l'essere umano fa per cercare di avere questo numero alto e allora facciamo anche la parte alla rovescia se io rischio 1 per prendere la metà 0,5 allora io faccio 100 diviso 0,5 più 1 1,5 che fa 66,66 allora di nuovo parto da questa base d'asta e l'equity nera quella più spessa vedete più o meno sta intorno allo zero ok allora se io entro sui mercati finanziari parlavamo prima di euro dollaro se io oggi entro assi a caso a ripetizione io poi ho fatto falomea che entra a caso così e si conferma provate il problema che poi ricordatevi dei corsi però se io entro adesso a caso sull'euro dollaro senza nessuna analisi nessuna checklist niente entro a caso e metto uno stop loss di 20 pips per esempio che equivalgono a questo 1 per prenderne target price 10 tu entrami pure a caso ne fai 66,66 giusta non si scappa è matematica cioè non è che possiamo inventarci altrimenti che poi però noi non entriamo a caso con uno stop di 20 per prenderne 10 ma entriamo con la checklist allora 66,66 per 1,15 76,65 76,5 questo è reale queste sono equiti reali verranno buoni queste sono equiti reali te le devi studare perché comunque devi avere la bravura di rispettare lo stop loss devi avere la bravura di rispettare il target price eccetera eccetera queste sono equiti reali allora da qui che cosa succede ragazzi e ragazze andiamo così non mi preparo prima i conteggi poi dopo un po' di ore che parli sei anche stanco però se io ad esempio fossi disposto a rischiare facciamo finta non so 40 tips su euro dollaro top loss target price 10 ok benissimo allora rischio 1 e prendo 4 volte di meno quindi 1 diviso 4 0,25 allora io prendo la calcolatrice faccio 100 diviso 1 più 0,25 quindi 1,25 guadagno 80% delle volte però sono un po' più bravo che ad entrare a caso quindi per 1,188 allora ho 88 e quindi vengono equiti che ci stanno allora cosa ti ho cercato di trasmettere ti ho cercato di trasmettere che cosa che se vuoi stare su di profittabilità devi accettare perché questo ti impone la matematica degli stop loss più grossi e dei profitti più piccoli quindi è vero che ne farai tante giuste di fila però poi ne farai una che se ne rimangia tante cioè è la matematica se ti piace questo tipo di trading se ti dà serenità se ti dà equilibrio puoi fare così già solo a livello matematico rischio 4 volte tanto il mio guadagno allora stai intorno al 90% ok se invece se invece di farne tante giuste puoi fartene segare in un botto solo con una giornata che poi andremo a definire di merda quella sarà lì perché sei abituato abituato a vincere introdurgo questo concetto perché per me è fondamentale perché qua stiamo parlando che non sia uno psicologo di psicologia anche nel senso che se per te non è un problema fare vinco 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 poi con una sola mi rimangio un sacco allora puoi usare questa strada se invece sei della strada opposta no che preferisci magari perdo poco perdo poco perdo poco perdo poco perdo poco e poi vinco quando vinco merita però devo aspettarla quella vincita lì allora faccio la strada opposta quindi magari provo a vincere 4 facciamo finta rischiando 1 4 più 1 fa 5 100 diviso 5 fa 20 più un po' facciamo 25 per 100 allora faccio queste altre equiti che salgono però queste equiti qui hanno la psicologia al contrario cioè tu devi essere pronto o pronta si può vedere anche qui sotto per l'atono tu devi essere pronto o pronta a perdere anche 35 volte di fila poi sul lungo le metri che si incastrano anche casualmente ne fai anche 9 giuste di fila ok però devi perdere tutte queste ok quindi vedi un po' te io tendenzialmente nel discrezionale preferisco seguire l'altra strada avere il braccino corto e lo stoploso un po' più largo quindi per avere lo stoploso un po' più largo ritorniamo a chiudere il cerchio di avere una checklist cioè un'idea per la giornata attuale cioè se oggi la giornata mi trasmette dal punto di vista della checklist il long ok e allora dove entro non mi seguo subito lì sotto un po' più sotto perché ho la sensazione che sia una checklist long non la sicurezza una sensazione una percezione statisticamente long ditela come volete no e quindi preferisco avere uno stoploso più largo e se mi va un po' su classiche cose che fa l'essere umano ma che non ho più voglia di fare perché sono dei pasticci sono delle sofferenze per guadagnare e mi sta bene guadagno però sono dei pasticci delle sofferenze quindi non mi piace allora io ragazzi e ragazzo ho scelto la via di mezzo ok nel senso che un modello che ne vada a vincere sulla fine il 53% ok ora bisognerebbe fare la proporzione no vinceva 6 virgola 4 perdeva 4 se qualcuno mi dicesse il numero da mettere qui dentro ma soltanto vinco un po' più di 1 non lo so un 1,3 per dire qualcosa del genere non so vediamo se tornano le metriche che sto improvvisando ecco una roba del genere quindi 53% delle volte vinco 1,3 che nella mia testa è quel 6 del portafogli e il 47% delle volte perdo 1 che è relazionato 1,3 è quel 4, qualcosa benissimo allora le perdite consecutive sono più rimaneggiate me le fa una macchina le accetto perché non posso toglierle lo dicevo ieri perché se provo a toglierle tolgo più valore aggiunto che non il contrario perché i prezzi sono vaccinati benissimo ragazzi ragazze non c'è dal punto di vista mio mica tanto altro da aggiungere se non che ovviamente delegare tutta questa cosa qui adesso qui ho 10.000 qualcosa di c'è aperta e chiudiamo se non che delegare questa operatività ad una macchina perché ovviamente non ho neanche voglia di fargli appresso anche perché tendenzialmente apre gli ordini alla sera ok perché trada intraday infatti non fa mai overnight quindi non fa mai overnight non fa mai over week quindi al massimo sta dentro dall'1 alle 22 al massimo ma adesso vi faccio vedere una cosa che è stata la scoperta che però non tutti gli dei hanno capito ok va bene quindi detto questo volevo prima spendere due parole su questo drawdown così leggiamo due metriche insieme così vi do una formuletta ok allora il discorso è questo allora io quindi ho fatto un errore perché io ho fatto un capitale di 10.000 allora una allora io guardo poche cose adesso le faccio vedere allora io guardo è questo il pay off expectancy trade medio average trade è uguale sono tutti i termini per dire la stessa cosa cioè praticamente mediamente quanto mi aspetto di guadagnare che aspettativa matematica ho di guadagno ad ogni trade ok sommando i trade negativi e i trade positivi la mia aspettativa la vado a valutare con questo numero la faccio con un lotto fisso quindi è ovvio che l'errore di base di fondo quale sia che se tu metti qui 100 e passaea hai 10.000 sul conto e tradi 100 e passaea con ognuno di quelli un lotto dove un lotto in controvalore vuol dire avere 100.000 euro dollari parlando di euro dollari per dire quindi se io ho 10.000 sul conto e trado un lotto e sono a leva 10 perché con un 10.000 per tradare a leva 1 dovrei tradare uno 0.1 però io lo faccio a lotto fisso perché ormai sono abituato a ragionare in termini di euro o dollari quindi ho bisogno di tutti i trading system questi qua devono tutti guadagnare più di 100 dollari medi ad ogni trade se no non mi alzo ok dal tavolo anzi non mi siedo volevo dire ok non mi alzo fino a quando non mi danno più di 100 ma non mi siedo neanche meno di 100 poi ce n'è qualcuno che guadagnerà di più di 100 alcuni molto di più e qualcuno che sta in questo portafoglio intorno ai 92 95 dollari a trade mi sta bene in un portafoglio mi sta bene ok quindi questo è un numero importantissimo questo è un numero importantissimo che rivela tantissime magagne non so se è di derivazione più in un'intesa questa parola o esiste in italiano ma diciamo vi fa intuire tantissime problematiche tra i vostri soldi da qui nel futuro che non conosciamo perché perché ad esempio vi fa vedere quando l'equity salga con i martingegni del bracino corto abbiamo parlato vedendo quel sito oppure della famosa e famigerata martingala che non ha nessun problema in partenza anche la martingala neutra poi se non c'è consapevolezza bruci i conti solo questione di tempo se la usi con consapevolezza può essere un'arma aggiunta che io ho sempre usato infatti nel mio trading discrezionale non in questo progetto sistematico ok allora chiudiamo un attimo il nostro discorso allora siccome io ho bisogno di valore in dollari che deve essere maggiore di 100 io sono stato costretto a far girare tutti questi ea con un lotto infatti se io vado qui nello statement adesso ci metto un attimino infatti si è bloccato anche il sosterino però voi vedrete che ognuno adesso così cominciamo a pulire questo tutto bloccato vabbè potevo anche evitare ma andiamo avanti poi arriverà la piattaforma allora bisogna far scrivere sì allora ognuno di questi ea ha lavorato alleva 10 ok perché facendo lavorare sul conto di partenza alleva 10 vedete tutti io apro un un lotto indipendentemente gbpn gbcad tutti aprono un lotto in questa maniera scusate ritorno di qui io posso avere il trade medio ok in dollari 154 se invece li avessi fatti girare tutti con 0,1 lui mi avrebbe scritto 15,4 che sono proprio i pips che servono perché è importante questo numero perché ragazzi ragazzi questa è la base sono le fondamenta matematiche del vostro trading no cioè quante volte vi è capitato di vedere in internet dell'equity anche come questa ma anche più dritte e andavate a guardare le expectancy o ricompensa attesa scritto ricompensa attesa sulla metà 3 del 4 e vedevate addirittura un numero negativo meno un pip meno mezzo pip e che fine hanno fatto queste equity è vero o non è vero perché perché non avevano la matematica dietro non avevano la sostanza avevano la martingala le mediate le grigliate e si sono schiantate se voi andate a guardare il vostro trading discrezionale così vi do un compitino di amicizia e non andate a guardare quanto abbiate guadagnato ok? con il vostro trading ma andate a guardare in termini di soldi ma andate a guardare quanti punti mediamente fate sul singolo trade e fate il trade medio del vostro storico discrezionale sapete quanto guadagnate ad ogni trade di media 1 2 3 4 5 pips o punti quindi sapete perché mediamente si guadagna? perché si riescono a fare tanto operazioni giuste perché si ha un stop plus più largo parliamoci chiaro no? si prende di meno per prenderlo più volte quando si perde si rimangia tanto però capita meno volte e poi si cambia la size si cambia la size ok? ma quale struttura matematica avete alle spalle? nessuna quindi finché dura fa la dura e ve lo auguro di cuore però prima o dopo i nodi verranno al pettine perché questi numeri non sostengono che cosa? i costi non sostengono se voi mediamente guadagnate 3 poi gli dovete togliere 3 meno 1 un pit di spread per dire no? per dire può essere di meno o meglio o alcuni strumenti di più ma di media diciamo 1 poi gli tolgo qualche slittamento no? il famoso slip page io lo pronuncio così insomma quindi quanto può essere ad ogni trade? ma 0,2 e poi gli tolgo le tasse e quindi tu ogni volta ti metti a rischio sui mercati per guadagnare 3 meno 1 meno questo qua facciamo che sia ancora un 0,3 per dire quindi 1 cioè mi sedo per guadagnare 1 ok? ma occhio ragazzi e ragazze perché quell'1 lì quell'1 lì dall'altra parte lo sanno quindi possono mettere i bastoni per le ruote e beh se tu stai andando in bicicletta uguale non sei carrozzato ti danno una spintarella a cali se magari non sai che andare in giro con la bicicletta prendi non so un carro armato se ti danno una spallata comunque la resisti bene cos'è il carro armato? un trade medio alto il più possibile però anche qui i mercati hanno una loro natura una loro capienza quindi è chiaro che vorrei un trade medio da 300 dollari ma nel forex la volatilità è quella che è e 154 dollari di media è un grandissimo risultato soprattutto su 10.000 operazioni ok? quindi occhio al trade medio average trade ho scritto così o ricompensa attesa quello è un numero importantissimo poi l'altro numero importante ovviamente ehm pardon ritorno un attimino così mi tolgo questo problema quindi se qui io parto con 10.000 e ho più di 100 Ea su ognuno metto un lotto cioè ma quanto cacchio sto spingendo un botto e malgrado questo il portafogli ha fatto un drawdown del 50% cioè tu stai tradando 10.000 euro sul conto hai hai 100 Ea e su ognuno di essi hai messo un lotto ma a mano ti schianti dopo due giorni qui ha retto e soprattutto ha retto in un momento in cui le intelligenze che stanno dietro questo modello non erano operative o meglio erano operative questo sistema me l'ho raggiunto che nel web io finora non ho mai visto qual è? il fatto che tutti gli expert che ci sono nel web o almeno quelli che ho incontrato io allora scartiamo quelli che non hanno il trade medio e lavorano con la martingala fanno così e poi si bruciano tutto il conto lasciamoli stare durano 6 mesi 12 mesi è già difficile vederli quindi quelli lasciamo stare poi ci sono quelli che prendono uno rischiando 20 anche quelli finché durano fanno verdura va bene no? ora andiamo su cose un attimino più serie che se ne trovano tante ma anche le cose serie hanno un problema che alla fine della fiera tu ad un certo punto decidi di partire qua hai fatto i test ti piace l'equity quest'equity l'hai fatta tu essere umano su uno storico di 9 anni qua nel caso specifico che conoscevi quindi sei sicuro sei sicura che non sei stato tentato dalla vocina interiore e che ti abbia fatto scegliere l'equity più bella ma era l'equity più bella sul passato non è garanzia del futuro anzi è garanzia quasi al contrario perché se io scelgo i valori più performanti nel passato e i mercati cambiano è quasi matematico che io me ne stia cercando le erogne le grani è vero o non è vero? ora ci vuole bravura a ottimizzare i parametri di un EIA perché scegliere 10 e non 18 piuttosto che non 37 ok? in funzione di cosa? ogni quanto cambia il mercato ogni quanto cambia il mercato ogni anno ogni 6 mesi ogni 3 mesi ogni quanto cambia allora io non volevo più fare tutta sta roba qui allora abbiamo è una parola grossa abbiamo A la persona che vi ho menzionato e che ringrazio che saluto Leo ingegnere aerospaziale ha fatto che prenda le sue competenze che utilizza ogni giorno per mandare e non è un modo di dire è vero i satelliti nello spazio si è per fortuna appassionato di trading si è per fortuna collegato con l'energia fabbrica mi ha incontrato nel web mesi fa è nato subito un grande amor ma veramente una persona splendida e quindi boom un'alchimia perfetta allora praticamente ha inventato un modo un modo di evitare di fare settaggio a mano dei parametri e ora ve lo faccio vedere ok? allora praticamente questo è un progetto che io generico lo attacco oggi il requisito è soprattutto il tempo la pazienza la serenità perché l'equity salirà il valore aggiunto c'è perché voi potete toccarlo con mano prendete qualsiasi time frame qualsiasi strumento gli fate il prezzo medio e lo tradate come vi ho fatto vedere nell'excel e mi sono registrato e vedrete che è così bisogna avere la pazienza per carità quella non la si può comprare da nessuna parte però stiamo parlando di un qualcosa che è tangibile e che negli anni vedrete rimarrà lì accettate i drawdown e per accettare i drawdown non bisogna spingere ovviamente con su 10.000 su 100 EA mettere un lotto qui è solo per farne le metriche ok? ma malgrado questo lui ha fatto un 50% di drawdown che in proporzione è pochissimo quindi che cosa ti sto dicendo? che questo portafogli tu lo puoi far girare a leva in maniera tale da assurtare l'interesse composto parli con che leva? e addirittura leva 10 me lo consigli? no io non consiglio niente perché tu a leva 10 se non ti brucia il conto agli inizi dopo vai a bomba ma veramente vai a bomba però siccome il valore aggiunto c'è e siccome sto richiedendo il come dire privilegio di darsi del tempo perché è investing non è trading quello è il discrezionale lo facciamo tutti i giorni da lunedì a venerdì in trading room in metro vario alle 10 e mezza fino a queste ore qui ok? più o meno bene allora lì si prova a chiudere tutte le settimane in profitto e ce la si può fare qua invece fa tutta la macchina compresi i settaggi tu lo attacchi oggi vai a farti il giro del mondo ricordati solo di prendere una VPS o di non spegnere mai il PC detto questo non ha senso partire a leva 10 regge a leva 10 cosa vuol dire? che tutto quello che è meno di leva 10 può reggere poi parli ma io non ho un conto professional quindi ho solo leva 1 a 30 eccetera ti dico che normalmente normalmente entrano 5 ordini 6 ordini 7 ordini in contemporanea ci sono capitate 3 volte negli ultimi possiamo quasi dire 20 anni che sono entrati 20 ordini in un giorno quindi se parti a leva 1 ok? quel giorno lì sei esposto o esposto a leva 20 ma normalmente sei esposto a leva 5 se parti a leva 1 e vengono poi dei numeri pazzeschi vengono numeri pazzeschi ma sapete perché? perché se ho pazienza di far girare tutto il progetto e ho la possibilità e la fortuna di non prelevare i guadagni ma di lasciare via e dimenticarli allora parto anche a leva mezza vedrete tra 2 3 e 4 anni ok? quindi è chiaro è un progetto a tendere ragazzi e ragazze il dispezionale l'abbiamo detto ok? quindi questa è una metrica da guardare e il drawdown l'ho spiegato ora lo capirete meglio dopo quando vi farò vedere l'intelligenza artificiale che autoimpara da sola ok? però siccome le energie cominciano quando è che parlo 2 ore magari venire meno allora chiudiamo il discorso questa è la metrica importante ho sbagliato qui questa è la metrica importante l'altra metrica è il fattore di profitto qui l'altro giorno in trading room ci stavamo scompisciando le realizzate a vedere nel web delle pubblicità dove c'erano dei profit pattern di 1 cioè di non 1 di 200 cioè ogni euro rischiato te ne porta a casa 200 invece qui vi sto dicendo che su 10.579 trade ogni euro rischiato perché quando clicchi e vai a mercato rischi te ne può portare 1,82 allora è credibile ne rischio 1 per prenderne 1,82 ok? questo può durare anzi vi dico la verità perché l'ho sempre detto ok? il profit pattern è validissimo tra 1,3 e 1,8 quindi mi tocco mi tocco perché stiamo sui massimi diciamo ok? è chiaro se faccio 10 trade posso avere un fattore di profitto di 5 di 10 di 20 ma su 10.000 e passa trade trovate mi voi un fattore di profitto di 1,82 e trovate mi voi un expectancy di 154 dollari boh finito a questo a questo chiaramente dovete portare a casa anche il cucchiaino no? sono due i cucchiaini il colore è lo stesso forse la consistenza è simile uno è di nutella e questo ci va giù bene e l'altro di cacca il cucchiaino di cacca è che dovete mettervi in testa in questi progetti che si vinca il 53% delle volte quindi vuol dire che tu parti oggi magari fai i 25 trade consecutivi in perdita da oggi ai prossimi 2-3-4 giorni dici cazzo però io ci credevo in tuo progetto eh io ti propongo tutto prima poi sei tu che ti fermi un attimo riascolti questo webinar nel caso ci ragioni eccetera eccetera ok? quindi questo l'abbiamo detto e poi lascio questa formuletta qui che mi piace aperta tonda aperta tonda 1 più profit factor per la profitabilità quindi in questo caso 0,53 più da tonda meno 1 questo conto deve dare maggiore di 0 più e maggiore di 0 meglio è ma attenzione tra 0 e 1 ok? se io trovo un sistema che va sopra l'1 ve lo dico con il cuore in mano e un sistema che sta sopra l'1 perché conosceva lo storico io sono qui conosco tutto quello che è indietro lo overfit cioè adatto perfettamente il sistema nei suoi parametri a quello che sapevo già sarebbe accaduto perché conosco lo storico allora andiamo sopra l'1 quel sistema che dicevo prima andava a 178 ok? invece questo qua e ripeto la bontà la genuinità allora tu fai la calcolatrice fai 1 più il profit factor che è un 82 quindi fai 2,82 lo moltiplichi per 0,53 virgola qualcosa ma facciamo così e a questo togli meno 1 ti rimane 0,49 questi Ea che abbiamo qui vanno da 0,21 0,22 adesso non li ho guardati proprio tutti fino a 0,8 e qualcosa stiamo intorno a 0,5 è tanta roba è tanta roba provate a divertirvi perché anche questo fa parte la nostra giornata prendere queste metriche il profit factor la profittabilità e fare quel conto di che vi ho appena fatto l'ho registrato per cui quando e qualora vi servisse nei prossimi giorni metterò questa registrazione sul mio canale YouTube mi trovate come MR di Mr Mr Farley Forex ci sono su quel canale anche i miei bagni nel fiume ho ripreso l'altro giorno dopo essermi quasi dopo il piede un mese fa comunque tutto a posto e ci sono anche video di trading oppure sul mio Facebook Farley Forex mi trovate tranquilli quindi detto questo detto questo ho dato anche la formuletta cosa volevo ancora dirvi e niente ragazzi penso che non ci sia più niente sento qualcosa da dirvi ancora qui ne abbiamo detto qualcosina sulle metriche qua non c'è il compounding e niente ragazzi grazie a voi io penso in realtà che abbiamo visto un po' tutto quello che volevo far vedere quindi tutto questo gira su un'unica piattaforma o se volete la dividete su più piattaforme dipende chiaramente anche dalla vostra struttura dal vostro collegamento in internet il pc è più potente a me non dà problema onestamente mettere questi centonea tutti qua così fa tutto in automatico ripeto apre e chiude ah si mi sono ricordato l'ultima cosa che volevo farvi vedere apre e chiude le operazioni in totale autonomia non va mai overnight quindi il sabato o la domenica è sempre flat chiaramente qui non ho già messi tante di possibilità ma ce ne saranno altre chiaramente stiamo facendo un percorso dove ci si becca il sabato pomeriggio e si ragiona che è già parte attiva di questo progetto si ragiona su varie possibilità quindi adesso i prossimi sabati ci beccheremo ovviamente che io ando abbiamo da dirvi delle robe detto questo vi faccio vedere questa roba qui vediamo se vediamo se siamo qui faccio vedere una cosa importante noi praticamente o meglio Leo ci ha dato una mano a far che cosa a far si che questo sia un mix tra quello che onestamente farei io a mano o meglio facciamo noi esseri umani a mano però lo fa la macchina vi faccio vedere vado qui per esempio vi faccio vedere questa cosa ah ecco due cose le ultime due le ultime due che sono importanti allora anzi no una allora avremmo ancora da dire il discorso del 70% e però ragazzi ragazzi anche qui dai volerò una via di mezzo penso ti avrei già dato delle cose importanti dare una cosa così gratuita al web il 70% non me la sento l'altra cosa invece me la sento vi dico questo provate a ragionare diversamente dalla massa la massa trada i prezzi provate anche nel vostro trading discrezionale a gestire i vostri trade con il tempo quindi da dove entrate non uscite perché andate in stop di prezzo o a target price di prezzo ma perché è passato un certo tempo questo toglierebbe lo facessimo tutti toglierebbe i punti di riferimento all'intelligenza artificiale ai video che stanno dall'altra parte ok ne andremo noi a fregare anziché essere sempre fregati ma ditemi quante persone conoscete che nel proprio trading discrezionale utilizzino per uscire da un trade la variabile del tempo non conoscete nessuno perché è difficilissimo farlo bene il portafoglio l'utilizzo al tempo perché una macchina è più in grado di farlo ok detto questo vi faccio vedere vi ho anticipato questo perché faccio vedere una cosa prendiamo euro dollaro per esempio prendo l'expert advisor più basico allora proprietà esperte vengo di qui carica euro dollaro long 5 quello più basico apri allora anche qui non sto a spiegare perché ho splittato o diviso i long dal g short allora vabbè qui si mette la mail qui si può lavorare all'otto fisso per fare il trade medio si può lavorare la leva per usare il compounding si può fare una anti martingala normale quindi questo è falso oppure modificata ma non ne faremo adesso mettendo vero poi si può lavorare long e short insieme ma io i long e i short li ricompongo nel programma che avete visto quello che fa l'equity quindi preferisco esplorare prima la parte long e poi la parte short tanto poi le mettiamo insieme di là quindi detto questo ad esempio qui ho attivato il long poi sul long ci sono delle app che non sono quelle del cellulare ma app come apprendimento quindi praticamente che cosa succede? succede che il nostro sviluppo sistematico passa da questa possibilità avere un'idea di trading che tendenzialmente deve essere esclusiva delle serie storiche quindi non il testo a spalle perché il testo a spalle lo vedi anche sul contorno delle montagne lo tracci così eccetera eccetera su quell'idea che è il prezzo medio PM prezzo medio su quell'idea ovviamente noi poi andiamo ad aprire il trade ma per aprire il trade dobbiamo superare ancora un filtro ok quindi dobbiamo superare il filtro delta long oppure il close range oppure il filtro vuoto sono dei nomi che gli abbiamo messo noi che ci ricordano delle cose il filtro pieno il filtro H piuttosto che questi time stop time open e time close ok in realtà i filtri sono questi qua e poi questa è una gestione temporale del trade che comunque al massimo fa 1.22 ok ora detto questo i mercati cambiano allora come dirlo allora i mercati cambiano e però però i mercati cambiano gradualmente per fortuna cioè non cambiano bruscamente perché sennò anche il trader umano a occhio se ne andrebbe ad accorgere cambiano in maniera subdola ok quindi questi apprendimenti ok riescono a capirlo e lo so che sembra tanta roba ed è qui che Dio scelto a Torino magari non ha capito nel senso che qua utilizziamo degli algoritmi che autoimparano dal mercato quindi non siamo più noi a dover mettere il settaggio ora quanto imparo dal mercato da adesso qui è sbagliato questo non lo sto a spiegare lo 0.5 è troppo lo 0.2 adesso vi spiego in realtà una parte quanto imparo dal mercato dal 5 al 20% non di più lo so che adesso è un po' un casino anche a mezzogiorno e mezzogiorno che io la trovo però nel caso rimango a disposizione per nei giorni prossimi se io qui mettessi impara 1 vorrebbe dire prendi l'ultimo trade fatto giusto e usa quel settaggio ok invece io vuol dire la macchina di tutti i trade vinti ne prende un piccolo pezzo di patrimonio genetico tra un 5 e un 20% ma è ovvio quindi questo è l'unico numero che vai a mettere cioè tu vai a dire utilizza ad esempio questo è lea numero 5 questo qua non usa un filtro ricorsivo delta non usa il close range non usa il vuoto non usa il pieno non usa l'incrocio usa il body che però non è settabile infatti non lo ritrovate nei settaggi non usa il filtro h poi usa un time stop un time open e un time close questo qua usa il time close se io vado nel time close adesso ve lo faccio vedere ma lo facciamo prima guardate ora intanto spengo cioè sono ea molto basici basati sul prezzo medio e l'abbiamo capito più un filtro basta se no c'è troppo overfitting troppi se troppi ma quindi sono veramente agricoli questi expert ma sommandone insieme le metriche che viene fuori con gli equiti che avete visto quindi se io spengo anche questo lo spengo un attimo lascio attivo solo questo perché così ve lo faccio vedere intanto facciamo così lanciamo queste equiti ma prima quindi questo equiti è un equiti così che godrà dei suoi momenti molto belli e dei momenti meno belli che devi sopportare ed è per questo che fa un portacolo quindi questo è un ea su euro dal 2001 perché 2001 quindi anche comunque già qui trovo un sistema che più o meno faccia un ebidi così negli ultimi quasi vent'anni ora detto questo che cosa faccio ottimizzo io in queste equiti qui proprio esperto utilizzo il body che è una cosa che non voglio spiegare perché va bene tutto ma fino a un certo limite quindi non la spiego però non è settabile non c'è qui sopra invece è settabile il time allora io ottimizzo nei long il time close che cos'è il time close allora io ve l'ho detto prima di default però non lo leggete nel ea non c'è scritto non si tocca di default lea apre alle 1 di notte scusatemi e chiude alle 22 ma i mercati cambiano allora cos'è l'overfitting ad esempio è questo prendo gli ultimi 20 anni e dico e sono qui come spettatore ma io li conosco questi qua a sinistra sono gli ultimi 20 anni e io dico sono qui se io negli ultimi 20 anni anziché chiudere il mio trade alle ore 22 lo avessi chiuso alle ore 17 avrei avuto la migliore equiti possibile e questo che cazzo vuol dire negli ultimi 20 anni hai ragione di media avessi scelto di chiudere il tuo trade alle ore 17 avresti fatto la cosa migliore ma 1 è il passato 2 sono sicuro perché i mercati sono ciclici che il 17 in certi momenti era un numero perfetto in altri momenti sarebbe stato meglio 18 19 in altri magari le 14 perché è matematico che non possa essere sempre 17 ma conoscendo lo storico posso allargarmi e dire avrei scelto le ore 17 e certo perché negli ultimi 20 anni era la scelta migliore ma lo sapevi già e questa è la bastardata dell'overfitting cioè oltremodo adattati ai risultati che già puoi conoscere perché lo storico lo conosci bene allora noi qui invece che cosa facciamo non chiudiamo in maniera overfittata alle ore 17 non lo scelgo io a che ora chiudo lo sceglie la macchina e questa è l'idea rivoluzionaria che c'è dietro ora come fa a capire che non dovrà chiudere sempre la 22 eh ci sono dei calcoli che fa e quanto patrimonio genetico mi porto a casa dai precedenti trade tra l'ottimizio guardate un 5% con un passo 5% fino a un 20% perché altrimenti non avrebbe senso quindi faccio ok ottimizza avvio lui parte adesso ci vediamo l'ottimizzazione un attimo ci metto un attimino perché dal 2001 comunque due calcoli deve fare non mi sembra che ci sto mettendo tanto e tanto ok perfetto allora se lui impara il 5% lui mi fa un trade medio o ricompensa a terza di 101 dollari rischia 5.700 per farne 26 io qui faccio 1 a 3 almeno per scegliere se impara il 10% prende il 10% del patrimonio genetico delle operazioni giuste aumenta un po' il trade medio ma praticamente di niente praticamente quello che voglio dire è che ci sarà chiaramente la scelta da fare però tutte le scelte sono profitevoli eh scusa se è poco poi è chiaro che andrò a prendere in questo caso il 5% adesso vediamo il 20 dove mi posiziono come risultato ecco c'è il 10 c'è il 5 c'è il 20 c'è il 15 a livello di risposta del mio amico ingegnere mi dice meno stiamo di apprendimento e meglio stiamo quindi lui sceglie intorno al 10% ok 5-10% io ci sono degli EAC che ho scelto anche il 20 non c'è problema secondo me però anche io se sto sul 10 o il 5% è meglio quindi ci scansiamo dall'overkeeping quindi abbiamo capito che tutte le percentuali di apprendimento davano un risultato ora detto questo allora adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire questo all'atto pratico tolgo l'ottimizzazione e vengo qua se io gli spengo il time close quindi il time close adesso in maniera ricorsiva dinamica autoimpara se è meglio più dare sempre la mia B2 oppure no poi lo posso fare sull'open price perché mi devo sempre aprire la luna ok magari a volte è meglio preserci anche alle 7 di mattina ma lo devi imparare da solo e poi c'è il time stop che appunto è una sorta di trailing ma non è di prezzo è sempre di time ok sempre di tempo adesso spengo questo quindi questo è basato adesso sul prezzo medio più un piccolo scamotage che abbiamo chiamato body che chi entra in lingua ovviamente avete capito tutto il resto è falso quindi più scanni di così ok perché se voi andate a cominciare a mettere sui vostri conti degli S perché hanno quel parametro quel parametro quel parametro quel parametro sarete bravissimi bravissimi sul grafico passato ma nel futuro perderete soldi è matematico ragazzi ragazzi aprite gli occhi quest'equity qui non è che sia proprio un'equity bellissima ma non è neanche brutta perché ha solo un parametro solo uno e se vado qui lui cosa fa apre l'una esce alle 22 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 capito l'antifona sì ma perché uscire sempre alle 22 quando la macchina può capire che invece sia meglio magari farlo in maniera ricorsiva quindi riattivo il time close con un 5% allora rilancio l'equity chiaramente a occhio non la vedrete cambiare magari chi è proprio più super osservatore osservatrice ma tendenzialmente questa è però mi dà fiducia perché io so che nel futuro perché adesso noi qui abbiamo scelto a priori una 22 su questa equity però se voi prendeste tutto questo storico potrebbe essere vero che mettendo le 18 le equity migliori sì ma chi mi garantisce che nel futuro che non esiste e ovviamente non è garantito il numero 18 sia il migliore nessuno allora qual è l'escamotage perché neanche qualcun altro può garantirmi che i ricorsivi continuino a fare loro però sembra proprio che sia un'idea rivoluzionale e funzioni allora io non scelgo più un numero fisso a priori prima usciva senza l'ottimizzazione del time close usciva alle 22 adesso guardate cosa ha fatto risultati il primo trade entrato l'uno è uscito alle 22 anche questo uscito alle 22 già qui ha detto la macchina è meglio se escono alla prima e qui ha tenuto le 21 le 21 le 21 le 21 le 21 le 21 ovviamente cambia gradualmente poi ad un certo punto esce alle 20 esce alle 20 di nuovo alle 21 è ovvio i mercati cambiano non ci sarà lo scossone non è che dalle 22 mi esce alle 10 di mattina esce alle 20 e anche poi ad un certo punto nel 2004 era meglio uscire alle 19 ma fa la differenza questo ragazzi e ragazze andiamo avanti più o meno siamo nel 2007 alle 19 sempre anche nel 2019 qui alle 18 il 2013 cioè stai abbastanza più distante dalla close 4 ore prima ok alle 18 alle 18 poi di nuovo alle 20 ma lo fa tutto in totale autonomia ragazzi e ragazzi è magica questa cosa perché questo vuol dire che veramente il sistema fa quello che potrebbe fare un trader umano ma lo fa una macchina finito però tutto questo è grandioso poi essendo ovviamente diciamo anche una mia pensata una mia creatura poi ringrazio tutto lo staff che c'è dietro per programmare fare i conteggi le verifiche eccetera è chiaro che questa cosa qui mi entusiasmi allora io che cosa faccio perché voglio andare a dormire tutte le sere ancora tranquillo sereno eccetera vi dico io in questo progetto ci credo sono partito in prima linea ovviamente detto questo è chiaro che vedendo un equity come questa ti può venire nel senso simpatico il mal di testa perché dici ma se io quindi farli avessi messo 10.000 euro nel 2001 e non avessi toccato mai oggi avrei più di un milione è quello che ci auguriamo cos'è il problema qui che non abbiamo messo i costi però non abbiamo neanche messo il compounding quindi che cosa vuol dire che nel 2001 apriva un lotto con 10.000 ma quando poi è arrivato a un milione nel 2012 diciamo continuava ad aprire un lotto quindi ovviamente si è dopo un po' molto sottostimato perché ovviamente se apri un lotto con 10.000 già con 100.000 dovresti aprire 10 qui e qui dovresti aprire 100 quindi in realtà ha fatto al contrario noi dobbiamo fare anche noi dobbiamo fare in realtà al contrario cioè noi partiamo con un certo investimento che ti fa aprire un lotto poi man mano che il conto sale te ne apre uno e mezzo poi te ne apre due poi te ne apre tre poi te ne apre cinque quindi è vero che da un lato i costi i costi impattino tantissimo impattano tanto e non ci siano qui dentro però non c'è neanche il fatto di aumentare il volume di ingresso anzi in proporzione l'abbiamo diminuito quindi quest'anno la prima prova che ho avuto è sull'aumento di volatilità della sceneggiata di Ierus ha risposto bene i settaggi si ripresi da solo quindi io non ho toccato niente e questa è una scoperta perché è chiaro che se io cioè io vengo qui vi faccio un webinar io questo lo conosco perché io conosco il gennaio, febbraio, marzo, aprile allora cerco in una notte i numeri migliori ve li mostro per farvi i liquidi così che cosa mi porto a caso? un bel cazzo mi porto a caso ok? quindi invece questi sono parametri che si sono auto aggiornati da soli esattamente come vi ho fatto vedere prima l'eurodolo attualmente su questo EA nel 2015 chiudeva le 19 andiamo all'attualità e addirittura attualmente l'ultimo trade l'ha fatto il 9 di aprile e l'ha chiuso è 18 17 17 17 17 17 quindi è così ma magari tra due anni sarà meglio chiudersi alle 21 o alle 22 di nuovo lui gradualmente lo imparerà ok? e di nuovo l'ultimo trade al 9 di aprile lo si viene a verificare con EUSD ho scritto EUSD 9 di aprile poi qua ci sono tutti i miei studi eccetera eccetera il 9 di aprile era questo vedete ha fatto questo c'era il prezzo medio in salita chiusura sotto e il 9 di aprile si è preso questo però non l'ha preso open to close l'ha preso l'ha preso l'ha preso l'ha preso che ha aperto l'una perché quello non è ricorsivo ok? possiamo anche cambiaglielo e ha chiuso alle ore 18 ok? perché adesso in questo momento qui questa idea dice è meglio chiudersi le 18 di piattaforma poi ripeto tra due o tre anni potrebbe essere che ciclicamente ritorniamo alle 21 e 22 e questo su tutto però tutto questo lo fa da solo ragazzi quindi per me il problema qual era? e ho finito e vi ringrazio per l'attenzione in realtà poi non ho risposto bene alle domande anzi in realtà non l'ho anche lette vi dico questo però rimango a disposizione ok? perché comunque credo di anche se non ho letto in maniera dettagliata o specifica le vostre domande io l'ho detto così tante robe e registrate che chi vuol capire ha capito allora detto questo guardando la chat ho perso il filo ho perso il filo ragazzi ragazzi niente detto questo statemi bene perché ho perso il filo vediamo se lo riacchiappo un attimo leggetelo solo come investing con pazienza con tranquillità la struttura c'è le inefficienze ci sono chi vuol capire ha capito ah ecco sì l'overfitting no? l'overfitting è il problema più grosso da superare quindi l'overfitting è questo estremo adattamento al passato come faccio a fare overfitting? quando metto troppe condizioni deve fare questo e questo e questo e questo e questo ma come vi ho fatto vedere nell'expert abbiamo tante possibilità ma ne metto una sempre il prezzo medio in salita vado long in discesa vado short alla fine dell'anno mi dà il valore aggiunto sul singolo trade no sul singolo trade no ad esempio questa non l'ha fatta perché non l'ha fatta malgrado il prezzo medio in salita e chiusura sotto non l'ha fatta perché non l'ha superato un filtro che evidentemente c'era ok per esempio quindi però alla fine dell'anno se io andro sempre long sul prezzo medio in salita e sempre short sul prezzo medio in discesa non l'ho raggiunto quindi questo ve lo portate a casa come checklist discrezionale cioè nella vostra checklist mettetelo da oggi in avanti sto punto o in long o in short finito detto questo per evitare l'overfitting non devo mettere troppe condizioni quando cominciate a vedere un sistema che devi fare questo e questo e questo e poi c'è lo split lo stop a zero sono tutti pasticci che sono vaccinati dalla parte opposta non c'è niente da fare ne venite fuori a mano ma non ne viene fuori una macchina punto poi Fabri se è tutto te prendetela così non mi cambia la giornata ok l'altra maniera per cercare di evitare l'overfitting qual è? è che tu prenda praticamente ogni tot quindi qua è il tuo storico e hai fatto dei settaggi da qui parti poi ogni tot fai un attimino dei check ogni mese ogni 30 trade è personale ognuno ha la propria filosofia allora ogni 30 trade tiro giù i risultati e dico ok in tutto questo storico avrei dovuto usare 10 quindi settaggio diciamo finto però negli ultimi 30 trade ripotendo rifarli e lo puoi fare con la macchina forse sarebbe stato meglio usare 12 va bene il mercato è cambiato utilizzalo 12 per questi successivi a me non piace un cazzo far così e oltretutto su 100 trade su 100 trade cazzo devo tirare giù un casino di numeri mettermi comunque su excel con il rischio di fare comunque pasticci umani niente allora lì non ci piaceva e siamo passati all'utilizzo di questi algoritmi ricorsivi che è auto in pano e vi ho dato una piccolissima dimostrazione quantomeno farvi vedere che appunto in totale autonomia andava a cambiare l'orario di chiusura ma poi cambia l'orario di apertura cambia il time stop e cambia l'apprendimento del ruoto del pieno e degli altri titoli ragazzi ragazzi io vi ringrazio una volta al mese faccio questa giornata una giornata anche di relax anche se in realtà sono due ore e mezzo a che parlo cercando di mantenere il filo di darvi dei punti di vista per farvi avere quantomeno il mio orientamento visto che nel web orientarsi è un bordello è un casino ok veramente difficile allora almeno chi è rimasto e rimasta e vi ringrazio tutta questa mattinata ho visto il video indifferita potete adesso sapere quale sia l'orientamento di farvi Forex ed è questo ve lo ho descritto nelle due ore e mezza che abbiamo visto insieme poi ci sarà l'orientamento dell'antimartingala l'orientamento della martingala l'orientamento della griglia della mediata del eh va bene tutto ognuno deve fare la propria vita però secondo me questa roba qui e lo dico proprio opposta perché così è sfidante per me oggi c'è se non sbagli a esagerare con le side quindi non vai a leva 10 benché avrebbe retto benché avrebbe retto ma vai a leva un po' più un attimino moderati visto che hai 100 ea da attaccare per dire se vuoi da attaccare se vuoi perché tu sei l'allenatore e l'allenatrice che hai 100 giocatori per adesso poi ne verranno fuori altri fanno sempre parte del pacchetto e quindi tu hai 100 giocatori dici quelli che mi piacciono in più sono questi 50 cazzo 50 ea ragazzi ragazzi fanno già il loro sporco lavoro ok però visto il vantaggio matematico derivante dalla sommatoria dei benefici delle inefficienze il più ne ho più ne metto tanto parto anche sono partito con side basse ok detto questo secondo me tra 2, 3, 4, 5 anni questa idea continuerà a essere qui mentre purtroppo non sarà così per il 90% dei trading discrezionali quindi datevi da fare sul trading discrezionale e il fatto che tra tanti anni non ci sarà ancora perché comunque quanto possa aver perturbato Eurofranco Svizzero il 2015 dopo che è finita scusatemi la perturbazione ha proseguito a concretizzare l'inefficienza va bene grazie mille domani domani oggi è giuridio domani mi sento con Leo volevo fargli vedere una cosa sul prezzo medio che se funziona ragazzi e ragazze ve la dico in trading room perché vi da un valore aggiunto sia discrezionale che al sistematico va bene allora io ti rompo qui la registrazione e vi ringrazio nuovamente la elaboro e poi la metto domani sul mio facebook così ho fatto anche prendo capra e cavo il video del venerdì e sul mio canale di youtube grazie di cuore e avanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti